come carta vetrata lavoravo in una fabbrica di piastrelle la stanchezza e il sudore li tenevo appiccicati addosso come mutande nelle natiche e tutte le sere un'umiliazione non riuscivo neanche a soddisfarla a dovere io mi colicavo lei cenava io uscivo sul terrazzino a fumare lei piangeva certe volte però non potevo far finta di nulla così la contentavo facevamo l'amore e io non ero sicuro nemmeno di stare al mondo imprecavo al suono della sveglia ogni mattina alle sei e ogni mattina svegliavo Adele dai suoi sogni oh basta non fare rumore Filippo torna a dormire non preoccuparti torna a dormire un accidenti tutte le mattine la stessa storia poi tu te ne vai al lavoro io rimango sveglia con due occhi gonfi come pomodori taci Cristo che non trovo le mutande sai che non riesco a prendere sonno se mi svegli di soprassalto ok ok scusa amore domani starò più attento dove sono le mutande pulite nella cesta in bagno si voltò dall'altro lato e riprese a dormire le diedi un bacio sulla fronte e uscì di casa quella mattina avevo un colloquio di lavoro come grafico in un'azienda ceramica volevo cambiare mansione lavorativa stavo morendo lentamente fra le piastrelle azienda in cui lavoravo non sapeva ancora che l'avrei mollata volentieri e neppure Adele buongiorno Filippo Rao dissi buongiorno Matilde mi dica ci stringemmo la mano avrei un appuntamento col signore Gisto Tedini un colloquio di lavoro mi ripete il suo cognome per favore alzò la cornetta del telefono e compose un numero Rao Rao Filippo le risposi a noi Matilde era una donna dagli occhi segnati dalla noia e dalla banalità pronto signor Tedini ho qui in reception una persona che la cerca dice di avere un appuntamento con lei il suo nome Filippo Roo Roo coprì la cornetta con una mano e mi guardò con gli occhi di una gatta in calore mi scusi il suo cognome riferì e chiuse la chiamata bene mi dia un documento di identità signor Rao il curriculum e la sua attenzione le diedi ciò che mi chiedeva proseguì il signor Tedini sarà presto da lei faccio le copie dei suoi documenti e glieli restituisco si accomodi su quella sedia rossa nell'attesa grazie l'attesa era stata noiosa come tutte le attese circa un'ora di silenzio le riviste a disposizione erano inguainate da almeno un paio d'anni di polvere non tentai nemmeno di sfogliarle le uniche due buone distrazioni per i miei occhi provenivano dal decoltè di Matilde dopo un po' mi raggiunse il capo il famoso signor Tedini e mi condusse nel proprio ufficio un uomo che superava il metro e novanta d'altezza occhi e croce la naso assai prominente e la testa piccola per giunta puzzava come un caprone mi toccò sorbire il tanfo e le idiozie di quel figlio di puttana per un bel pezzo si accomodi prego grazie allora come prima cosa vorrei non si facesse illusioni disse allontanando le lunghe braccia dalla scrivania che cosa intende dire lei si chiama scusi Filippo Rao ero stanco di ripeterlo ecco signor Rao sarò da subito onesto con lei riavvicinò le braccia alla scrivania e prese in mano i miei documenti li lasse velocemente sputacchiando sul curriculum questo intendo questo disse stringendo la mia vita in pugno lei non ha esperienza sufficiente perché io posso assumerla come grafico e comunque sia lasci stare l'esperienza glielo dico chiaramente alle ceramiche d'autore abbiamo bisogno di personale ai forni alle linee alla smaltatura insomma si servono braccia utili e non sprecate capisco le mie competenze sono basate su altro non in mi interruppe le sue competenze qui dentro non servono lasci stare questi sogni scusi se mi permetto ma oggigiorno è fin troppo difficile trovare lavoro io gliene sto offrendo uno non credo rinuncerebbe all'incarico se le proponessi di restare basta una firma ed è fatta beh non le nego che ma vorrei riflettersi un attimo signor Rao mi ha capito bene le sto offrendo un lavoro uno stipendio va bene dai faccia come crede nel caso però dovesse ripensarsi non le garantisco che il posto sarà ancora disponibile fece per allungare la mano per salutarmi va bene gli dissi cosa accetta sì bravissimo e complimenti per il suo nuovo incarico distringemmo la mano si inizia lunedì firmai tutto quello che c'era da firmare avevo finalmente un nuovo lavoro e nonostante ciò sentivo montare una triste sensazione che prendeva a corrodermi lentamente un po' ovunque una birra alla spina piccola o grande grande prese il boccale e andai a sedermi a un tavolino poco illuminato del bar dopo il contratto avevo bisogno di bere non ricordo se per festeggiare o dimenticare l'evento a quell'ora il bar ha raggremito di lavoratori in pausa pranzo e ubriaconi serali gli hai di uno sguardo al quotidiano piegato in quattro sul tavolino così lessi mezzo titolo e un quarto di pagina credo parlasse dell'ennesima vittoria di schumacher riposi il giornale sulla sedia buttai giù un bel sorso di birra mentre tornavano alla mente le parole del fetido caprone rimuginavo sulla proprietà di linguaggio che gli apparteneva e che usava per rivoltare come un calzino i poveracci come me poi pensavo alle mie risposte inappropriate mi aveva letteralmente inculato al tavolo accanto al mio vi erano quattro uomini molto rumorosi quattro rissaioli che vantavano litigi a coltellamenti e denti spaccati erano evidentemente ubriachi fino al midollo spinale tania portaci da bere muoviti disse uno di loro la donna arrivò immediatamente con una bottiglia di grappa del ghiaccio e quattro bicchieri sei una bella gnocca vania vieni un po qua sono così infoiato che ti scoperei davanti a tutti togli quella mano beppe senti slovena di sto cazzo siedi qui disse indicando le gambe faccio in questo modo ti alzo la gonna lo tiro fuori e te lo fico dietro tu non devi far altro che star ferma e sognare vallo a ficcare alle puttane che conosci tu io non sono una di quelle stronzo e cosa sei allora una verginella a casa e chiesa la donna tornò al bancone rincorsa dalle ghignate del tipo e tu che guardi? lascialo stare beppe non ne vale la pena gli disse uno al tavolo t'ho detto di dirmi perché mi guardi ripete ancora una volta a voce alta ce l'hai con me? risposi sapevo si stesse rivolgendo a me non sai il mio tipo hai sbagliato lotta preferisco le donne inarcai solo un lato della bocca quel bifolco mi chiese di avvicinarmi a sé non ne ho voglia gli risposi ah sei uno tosto ragazzi questo coso è un duro risero tutti ho solo voglia di stare tranquillo mi voltai dall'altro lato feci un bel sorso mi accorsi che i quattro cominciarono a parlare di me e a buttare grappa giù nel gargarozzo forse studiavano il modo di cancellarmi dal pianeta uno di loro venne a mettermi si di fronte alzati e vai dal messicano non voglio grane voglio solo bere la mia birra in pace e poi andarmene a casa le grane le avrai se non muovi il culo allora mi alzai e feci ciò che voleva mi diresse al loro tavolo il messicano mi guardò prima da capo a piedi poi mi insultò disse che ero un nano imbecille non aveva tutti i torti cercava uno scacciapensieri per il suo inutile pomeriggio aveva occhi sottili e bocca sottile dal labbro inferiore sforgente pure il naso era sottile e finiva a becco di rapace era un ibrido mal riuscito tra un pappagallo e una brutta scimmia lo guardai senza controbattere ero al centro dell'attenzione di tutti una platea da arena che invocava sangue il tipo si alzò in piedi facendomi ombre con le spalle poi gonfiando le vene del collo si rivolse ancora alla slovena senza staccarmi gli occhi da dosso vania un'altra bottiglia vania arrivò al volo con un'altra grappa cubetti di ghiaccio e nuovi bicchieri il messicano si ficcò la bottiglia in bocca e beve ti sei cacato addosso nano puzzi di merda cominciò a ridere forte e tutti gli altri appresso a lui erano allegri a quanto pareva senti gli dissi levati di torno e lasciami stare per favore vedi che sei un imbecille mi spinse forte caldi a terra lungo sotto un paio di sedie dopo essermi ripreso dalla brutta botta mi rialzai e beve ciò che rimaneva nel boccale sanguinavo da qualche parte forse da un gomito contraccambiargli il favore mi avrebbe portato dritto all'inferno allora accesi una sigaretta spolverai i pantaloni e andai in ritirata tornai a casa in serata Adele non c'era mi chiedevo se fosse uscita a fare la spesa mi spogliai lungo il corridoio e mi infilai in bagno per una doccia calda l'acqua mi tolse da dosso tanta polvere e brutte facce cattivi odori e fallimenti prima che tornasse Adele decisi di andare a ingurgitare un panino e un paio di birre al fast food sotto casa il cibo faceva schifo come al solito e per rifarmi la bocca andai a bere dell'altra birra a credito al bar Montanari di fronte al fast food e del whisky quando rincasai era ormai mezzanotte Adele dormiva ed io barcollavo era andata a fare la spesa come immaginavo aveva preparato la cena e sistemato la tovaglia migliore sulla tavola al centro aveva una candela accesa consumata per metà e una bottiglia di buon rosso ai nostri posti due calici aveva in mente di fare qualcosa di buono per noi e io le avevo rovinato tutto si era rannicchiata sul divanetto della cucina indossava un vestito blu corto sino alle ginocchia e attillato ad aspettarmi si era addormentata povera Adele la coprii con una copertina di cotone le tolsi le scarpe e le diedi un bacio sulla fronte poi presi la bottiglia e andai a scolarmela in camera da letto il mattino seguente ero in preda agli effetti del dopo sbronza non mi ero nemmeno reso conto che Adele si fosse distesa a fianco a me durante la notte la guardavo con rammarico era a pancia in giù e aveva ancora indosso il vestito attillato mi eccitava a guardarle le curve avvolte in quella specie di cellofan e le gambe nel nylon oh le gambe andavo matto per le sue gambe mi salì qualcosa in gola dallo stomaco mi voltai appena in tempo verso il pavimento e vomitai anche l'anima credo di averla persa proprio in quell'occasione l'anima mentre mi davo da fare in quel lato penoso suonarono al citofono non avevo la minima voglia di alzarmi dal letto tanto meno di vedere qualcuno allora provai a svegliare Adele con una mano ma dormiva profondamente e in volto le sostava un'espressione malinconica forse sognava della serata deludente trascorsa ad aspettare nessuno la lasciai ai sogni e mi trascinai al citofono chi è? ciao Filippo sono Ilaria del piano di sopra ascolta scendi giù subito i vigili vogliono farti portare via l'auto gli ho sentiti che chiamavano il carro attrezzi come portarmi via l'auto? ebbe un conato di vomito cazzo oggi è sabato scendo subito grazie Cristo 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 per ogni gradino che scendevo un povero Cristo cadeva dalla croce ucci in strada in mutande e canotta buongiorno bofonchiai raggiungendo i vigili uno dei due mi guardò da capo a piedi quasi con ribrezzo quindi disse è sua quest'auto sì sì è mia la tolgo subito di qua aprì lo sportello e mi ci infilai dentro ma dove va esca dalla macchina ti sta raggiungendo il carro attrezzi e intanto le faccio la multa per sosta vietata ma come? credo che nelle condizioni in cui si trova e dall'alito alcolico che ha di prima mattina se s'azzardasse a guidare le strapperemmo la patente all'istante e intanto scriveva ma ascolti per favore ho anche un certo mal di testa so che il sabato e fra un po' questa via sarà piena di banchi del mercato e so che di sabato le auto non possono sostarvi ma sono appena le sette accidenti avrai bisogno di un caffè e qui non c'è ancora nessun mercante chiuda un occhio se può sta scherzando per caso come si permette di rivolgersi a un agente di pubblica sicurezza in questa maniera le consiglio di non continuare a pronunciare sciocchezze la chiamata è stata inoltrata di conseguenza il carroattrezze arriverà punto potrà a suo arrivo mettersi d'accordo con l'autista per la rimozione o meno della sua autovettura e sui costi inerenti firmi qui quel vigile era pari a un calamaro congelato d'altronde non faceva altro che il proprio mestiere di lì a poco arrivò l'autoveicolo attrezzato e io ero sempre in mutande ma non badavo troppo alla cosa e l'aria invece mi guardava dal terrazzino e rideva mi avvicinai al conducente salve sono il proprietario dell'auto da rimuovere quanto mi costerà questa rottura di palle l'uomo mi salutò a malapena con un gesto della testa se ti carico l'auto mi devi 90 euro del trasporto più 10 euro del parcheggio nel mio capanno 10 euro in più per ogni giorno no nessun trasporto solo per il viaggio a vuoto intendo per il viaggio sono 50 euro con fattura e 35 senza va bene senza fattura di domenica il paese era morto sembrava che la popolazione si fosse estinta come in uno di quei film da fine del mondo nessuno nemmeno un'anima nel raggio di tre chilometri è un paese di lavoratori e formiche pensavo di burattini che fanno del proprio lavoro l'unico motivo di vita e pensavo anche che non sarai mai riuscito a viverci a lungo in quel posto tanto tranquillo fuori non c'era né caldo né freddo solo inutile umidità dentro invece pulsava inquietudine era l'ora di annunciare l'assunzione alle ceramiche d'autore alla mia donna l'idea era di rivelarglielo davanti a una portata di cacciagione arrosso e ottimo vino rosso dovevo farmi perdonare un certo comportamento ma non avevo abbastanza denaro per farla mangiare in un ristorante costoso e gliene parlai davanti a un piatto di fettuccine alla boscaiola e un quarto di vino della casa alla locanda del principe economico dai piatti abbondanti e a due passi da casa in questo posto si mangia sempre bene mi disse sì e si spende anche meglio le risposi versai del vino a entrambi ma come al solito lei lo respinse sai che non bevo phil sì lo so ma dai almeno un sorso devo dirti qualcosa cosa prendiamo prima così riuscii a farle bere un po' di vino allora cosa volevi dirmi che starnazzi non le trombe ho un nuovo lavoro che cosa scherzi ma no non è uno scherzo venerdì scorso ho avuto un colloquio di lavoro sai che avrai voluto fare il grafico no beh sì quindi ti anticipo che nemmeno stavolta sono riuscito a farmi assumere come grafico ma ho accettato lo stesso il nuovo incarico tu sei pazzo ma come e alla ditta in cui lavori gliel'hai detto no non gli ho detto un cazzo a dire un lavoro vale l'altro no le prese una mano ascolta ho bisogno di cambiare aria qualunque lavoro dovessi svolgere non ne sarai felice lo sai tranne che nel giorno di paga ritrasse di colpo la mano sai qual è il tuo problema Filippo è che non hai mai avuto voglia di lavorare vuoi fare quello che ti pare senza dover tenere conto a nessuno e ne sono sicura fra due mesi al massimo darai le dimissioni anche da questa azienda per carità non voglio nemmeno sapere di cosa ti occuperai stavolta sarà diverso Adele mi assumerò le mie responsabilità le tue responsabilità finse un buonario sorriso le conosco bene le tue responsabilità non disse altro credo non abbia mai creduto alle mie parole le avevo già detto tutto e accettare le sue continue provocazioni avrebbe significato litigare ne avevo pieni i coglioni di litigare le riempì il bicchiere di vino aspettando automaticamente che lo respingesse non lo fece con mia meraviglia ordinai un altro quartino brindammo e bevemmo ognuno ai propri motivi si era lasciata possedere dal dio bacco nonostante quello fosse molto a buon mercato e io non potevo che trarne vantaggio quella sera scopammo come folli lei sembrava indemoniata ammattita mi piaceva era da molto tempo che non lo facevamo in quel modo dopo una buona scopata riuscivo anche a credere che lavorare in fabbrica fosse qualcosa di sopportabile anche dopo aver bevuto credevo la stessa cosa peccato che in entrambi i casi gli effetti benefici fossero momentanei la sveglia suonava e io non dormivo più già dalle quattro avrei dovuto presentarmi in fabbrica alle otto e trenta in punto non potevo assolutamente tardare così chissà per quale strano meccanismo cerebrale aprì gli occhi due ore prima della sveglia presi le mutande pulite dalla cesta mi vestii decentemente baciai Adele non la svegliai stavolta fuori c'era brutto tempo in quel maledetto paese di montagna il freddo bucava ossa e anima un cicchetto di primo mattino riusciva a scaldarmi almeno le ossa arrivai a destinazione ceramiche d'autore buongiorno Matilde ah buongiorno a lei Filippo l'aspettavamo fece una telefonata come da prassi e in pochi minuti si materializzò il caprone buongiorno signor Rao stretta di mano venga venga le mostro le varie attività che svolgiamo in fabbrica ero entusiasta come un condannato alla camera gas almeno tenne a mente il mio cognome il caprone guardi lì abbiamo il banco del decoro vada vada si avvicini pure quei venga venga quei vada vada non mi divertivano affatto lei è Maria Maria lui è Filippo il nuovo assunto lei l'altra è Giulia Giulia lui è Filippo lei Pina lei Agata lei Irene e così mi presentò una sfilza di facce cupe truccate da clown aggrappate a tavoli lunghissimi pieni di colori e pennelli quelle donne erano infelici dal fondo schiena in su senza vita in volto e decoravano piastrelle a mano con la precisione di un getto laser poi il caprone mi accompagnò al reparto smaltatura dove incontrai Didi una ragazza dalla corporatura forte e dal medesimo carattere aveva gli occhi di una bella giornata per fortuna indossava guanti bianchi e impugnava una pistola ad aria compressa con un serbatoio al suo apice pieno di vernice bianca era simpatica Didi riempiva il serbatoio riempiva le griglie riempiva il carrello trascorreva il suo tempo a riempire credo avesse avuto bisogno di qualcuno che riempisse lei in qualche modo continuammo il giro all'assemblaggio mosaico al laboratorio chimico ai retini all'imballaggio e da qualche altra parte ero già stanco di tutto quanto quegli individui avevano perso ogni colore a star lì dentro mi segua Rao mi segua mi portò in un angolo del capannone lontano dal resto degli altri operai e mi mostrò l'allegro lavoro che avrei dovuto svolgere nel mio primo giorno è semplice guardi prenda uno di questi reticoli faccia attenzione che sono molto delicati sono di gress e si frantumano facilmente ok pensavo all'affinità del gress con i miei testicoli ok risposi in ognuno degli spazi vuoti dovrà deporci questi mattoncini e quando il reticolo sarà pieno di mattoncini basterà fare in questo modo gli appoggiò sopra una tavoletta di compensato e lo ribaltò su un tavolo alle nostre spalle semplice no disse sì risposi feci quel giochino per otto ore non so quante migliaia di mattoncini stesi e ribaltai e poi stesi e ribaltai ancora e compagnia cantando otto ore di lavoro per cinque giorni la settimana tranne il sabato e la domenica che consumavo con Adele a bere o a sognare di meglio quaranta fottute interminabili ore a ficcare la mia vita nel gress mi avevano fregato stavano succhiando il mio tempo mi domandavo cosa stessi facendo io in quel posto me lo domandavo ogni giorno dal momento in cui timbravo il cartellino a quando sentivo il puzzo di sudore salirmi su per il naso sì mi avevano fregato cristo ci erano riusciti mi trovavo affacciato sul water a pisciare uno dei pochi momenti di assoluta intimità con me stesso Adele borbottava dalla cucina ce l'aveva con me manco una pisciata in santa pace mi fai fare urlai dal bagno spero che se ne cada sto coso che c'hai in mano non avevo in mente per quale motivo mi stesse urlando contro ma a cercare bene un motivo l'avrebbe sempre trovato mi chiedevo se fosse colpa delle mie sbaglie da cantautore da scrittore di qualche sogno di troppo insomma nulla di ciò a cui pensavo non avevo lavato i piatti della sera prima non avevo riordinato le cianfusaglie sul lavello e lei si era appena svegliata forse Adele al suo fianco avrebbe meritato un uomo dai testicoli abnormi e dal cervello di una locusta un uomo che sarebbe tornato felice dal proprio lavoro che le avrebbe preso una mano e gliel'avrebbe riempita di promesse per poi accogliere l'altra e imbottirla di certezze uno che le avrebbe dato sicurezza io non ero nulla di tutto questo guarda Filippo non voglio ripetertelo più sono stanca dei tuoi comportamenti davvero te ne staresti seduto con quella maledetta chitarra a scrivere o comunque a fare quello che ti pare per ora tanto per te non esisto vero? diceva non aveva torto e non aveva ragione stava semplicemente facendo in modo che le chiedessi scusa per qualcosa per il mio caratteraccio per riappacificarsi con se stessa probabilmente non aveva importanza su cosa la sera dello stesso giorno andammo in un piccolo borgo a sud del paese in cui vivevamo un posticino scordato da ogni forma di vita tranne in quella occasione c'era una festicciola e un concerto del coro Montecuccolo in piazza credo di non aver mai visto tante capocce bianche tutte assieme prima di allora e tra gli spettatori ogni tanto si intravedevano un paio di giovani gambe femminili sode e lucide era palese chi si portava appresso quegli arti non aveva niente di meglio da fare io mi sto annoiando troppo se non facciamo qualcosa impazzisco dissi ad Adele a me piace tutto questo lo trovo molto romantico rispose poco dopo vedi uno stand in cui versavano del vino sai anche io ho trovato qualcosa di molto romantico le lasciai fare la conoscenza di due ragazzini ottantenni e mi piombai dal vino Filippo ciao oh ciao Didi anche tu in questa grande festa a quanto pare sì rise io abito a Pavullo nel Frignano in un paese a uno schiocco di dita da qui sapevo di trovare buon vino da queste parti e ma dai anche io abito a Pavullo fantastico ascolta bevi anche tu oh no no grazie stavo per andare va bene allora ci vediamo al lavoro certo mi sorrise nuovamente e andò via in quell'infelice teatrino i suoi occhi portarono un po' di speranza all'intera umanità abbandonai la mia donna per molto tempo non mi resi conto quanto con la gente del posto appurai una certa affinità tanto da condividere brindisi e chiacchiere con gli uomini dell'unico bar ad ella era furiosa e insostenibile ancora una volta dovette perdonarmi qualcosa ancora una volta dovetti chiederle scusa nel mese di ottobre i fiocchi bianchi non davano tregua per giorni e notti coprivano tutto quello che c'era da coprire compreso certe speranze scesi a comprare un pacchetto di sigarette strisciando nella neve in quella tabaccheria c'era di tutto dai profumi ai fiori dai cubani all'utensileria da ferramenta verrà esposta anche una minuta raccolta di libri su un ripiano in legno tra i nomi leggevo Miller Hemingway Kerouac ecco e qualche altro figlio di buona donna il proprietario di tutto era lo zio di Ilaria la mia condomina che mi accolse con un sorriso beffardo infossato in una barba da folletto malvagio la simpatica nipotina gli aveva sicuramente raccontato la faccenda dei vigili e prima che diventassi lo zimbello del folletto presi il pacchetto e mi avviai a fumare su una panchina in centro adele mi chiamava al telefono avrebbe trascorso serata e nottata a casa di un'amica a fare cose da donne mi disse e io con me stesso a fare cose assurde da qualche settimana a quella parte il negozio di abiti da sposa si era trasformato in un night club dopo la fiction in tv e dopo aver messo a letto le mogli i vecchi vi si riunivano per masturbarsi sulle mammelle ballonzolanti di giovani donne l'odore di figa facile trasforma gli uomini in cani randaggi dall'olfatto sopraffino supposi il night club non era un gran posto dove bere del whisky in pace un luogo triste dove le donne si avvinghiano al solito palo e i papponi sfregano le mani i porci finiscono per ubriacarsi e le puttane incassano denaro con le loro consumazioni quella sera avevo bisogno della compagnia di un bicchiere pieno e presi parte al triste gioco venne a sedersi una di quelle signorine di fianco a me volevo stare in pace quindi le dissi di andarsene si alzò ma rimase ferma in piedi il suo corpo era proprio un bel macello e comunque venne a trovarmi non certo per la bella faccia che avevo non tardò a dirmelo perché non vuoi offrirmi da bere questo è il mio lavoro cico ti provò mi poggiò una mano sulla coscia era chiaro che non avrei potuto bere in pace in quel posto lei era attraente sui 35 pelle scura e viso ossuto il grosso fondo schiena sembrava esserle venuto fuori da un dipinto di guttuso cercai di non guardarle gli occhi avevo timore di trovarci troppa roba triste cedetti al culo sedi qui bambolina oh finalmente cico poi urlò alla donna del banco anita portaci due whisky per favore ordinò per entrambi ascolta sei davvero uno schianto ma non berremo dell'altro assieme dopo aver bevuto il whisky già ordinato ok ok come vuoi senti se vieni in stanza con me ci divertiamo giocò sull'angolo della mia bocca con un'unghia com'è che ti chiami Joyce non verrò Joyce fece un sorriso sorrise mi acarrezzò fra le gambe e me lo fece drizzare allora andiamo di là disse ancora non era facile resisterle nel frattempo arrivarono i due bicchieri tieni Joyce bevi non capivo il motivo per cui stesse perdendo tanto tempo con me quando nel locale avrebbe potuto scegliere chiunque altro le luci gialle che ruotavano dal soffitto la colpirono in piano volto mi addentrai nel suo sguardo caddi nel tutto o nel nulla di quegli occhi non avrei voluto farlo in un certo senso era stato costretto a penetrarle l'ingresso principale ordinammo ancora da bere bevemmo molto più di un whisky a testa saranno fatte le due di notte ero senza più nemmeno un centesimo in tasca e il night club ormai semivuoto i vecchi avevano eiaculato già da un pezzo e chi non era morto d'infarto dormiva accanto alla propria moglie tutto questo era fantastico Joyce temeva il capo la controllava se stesse facendo il proprio mestiere così decise di mollarmi il mio turno è finito cico ti devo lasciare ti saremmo potuti divertire se solo si alzò dal divanetto tenendo le gambe strette ascolta le prese un polso mi spiace per tutto quello che hai lì dentro negli occhi intendo non avrei voluto sbirciare si bloccò di colpo come una dea scolpita nel marmo oh ecco un altro Freud del cazzo buonas noce cico rise e andò via la ritrovai all'uscita del locale batteva i denti coi tacchi ficcati nella neve disse che stava aspettando proprio me con le temperature gelide che infliggeva la notte scelsi di farmi arruventare dal suo inferno lasciando a parte quello che mi ardeva in corpo salimmo in auto avvolti dal suo profumo ce l'hai una sigaretta disse gliela diedi la squarciò in verticale prendimi la confezione di cartina in borsa se non ti scoccia gliela presi mentre guidavo mischiò l'erba un po' di tabacco confezionò uno spinello e l'accese cazzo se ne avevo bisogno esclamò dopo il primo tiro feci scaldare l'abitacolo tiravamo per il paese fra le luci dei lampioni che morivano nel ghiaccio non parlammo per lungo tempo lei fumava e stringeva a sé il cappotto è davvero difficile difficilissimo blatterò d'improvviso cosa? oh niente scusa pensavo a voce alta dimmi non avere vergogna ma quale vergogna? ti sembra una che ha vergogna? niente pensavo a quanto fosse difficile che una persona riesca a vederti sul serio a leggerti in modo corretto insomma capito no? penso di sì quanto vorrai sparire e poi ricomparire diversa questa però non l'ho capita insomma diversa da come sono porca miseria perché come sei esistetti vorrei che gli uomini non mi apprezzassero solo dopo avermi guardato il culo le tette e il corpo capisci? aspirò una lunga boccata di fumo vorrei che per una volta mi guardassero negli occhi e scoprissero dell'altro proprio come hai fatto tu mi passò la canna Joyce tu incontri uomini che pagano per vederti il culo e tutto il resto non piagnucolare io ho inventato solo un cumulo di cazzate corrugò la fronte come se quanto detto da me fosse solo uno scomodo dettaglio rimanemmo di nuovo in silenzio entrambi a guardare la strada e i marciapiedi ghiacciati e le sarazzine schecchiuse dei negozi buttai la cicca dal finestrino avrei resistito ancora per poco a quel bel paio di gambe setose che le venivano fuori dal cappotto se non l'avessi parcheggiata presto da qualche parte non le resistetti lo facemmo in macchina fermi in uno slargo tra le curve di benedello fottemmo forte fu breve le venni fuori le terminai sul ventre dove ti porto chi hai da fare dio santo la nanna per quanto provassi a stermene in pace sembravo essere la calamita di pazzi di vita e cervelli morti ehi cico scusami forse sono stata un po' aggressiva dichiarò poi dove ti porto le tornai a chiedere ci vedremmo ancora mi domandò non ci vedremo ancora le risposi e perché avrai mica già una donna accidenti senti dove ti devo lasciare ok chiuse il discorso si fece abbandonare nello spettrale piazzale di una stazione di servizio alla periferia di Pavullo qualche cliente era già lì che l'attendeva impaziente affari spenti mi domandavo se le autentiche puttane rimanessero tali a vita o se fossero disposte a una qualche redenzione era chiaro che Joyce se ne sbatteva delle redenzioni e dei cristi in terra la ammiravo rientrai in casa alle 5 del mattino dopo aver fatto tappa al primo bar che tirava su la saracinesca ero in panico il senso di colpa mi stava divorando le budella dovevo berci su devo berci sempre maledizione alle 6 avrebbe suonato la sveglia e comunque era l'ora di smetterla di pianucolare Adele sarebbe rincasata non prima delle 10 mi accasciai sul letto quasi privo di sensi iniziai a vedere demoni iridescenti schizzare nel buio udivo ronzii insistenti e il cuore per poco mi balzava fuori dal petto ero strafatto oppure mi stava accadendo realmente qualcosa ebbe davvero paura che fossi arrivato al capolinea probabilmente svenni e riaprì gli occhi al suono snervante della sveglia al lavoro mi diedi per malato sono sicuro che quel figlio di puttana del barista ci avesse messo qualche strana sostanza nel bicchiere la settimana successiva fu dura io con le mie continue sbronze e i conseguenti giorni di malattia al lavoro e Adele alle prese col suo primo impiego in una ditta di pulizie si impegnava sul serio lei al contrario di me si dava da fare senza una laventela una di quelle notti venne a prelevarmi l'ambulanza davo male di nuovo non mi reggevo in piedi mi fecero dei prelievi del sangue e dell'eflebo Adele era al mio fianco non mi abbandonava il medico lesse l'esito degli esami non mi raccontava nulla di buono la pressione voleva raschiarmi il cervello avrei dovuto prendere delle pastiglie e tenere a freno l'alcol la seconda richiesta era troppo impegnativa e tenne conto solamente della prima i forni erano due indicati come forno grande e forno piccolo il forno piccolo era comunemente spento o acceso solo per piccole produzioni e l'altro bruciava giorno e notte al forno grande c'era chi dà bubba insegnarmi come fare per non perdere il senno lei maneggiava piastrelle da un paio d'anni prima di me i suoi movimenti erano robotici e mostrava un sorrisetto stampato ingiallito come carta da imballaggio Akida era una tenace ragazza di origine marocchine dalle spalle muscolose era sempre incazzata nel periodo del ramadan maggiormente io riuscivo a farla sorridere con qualche battuta ma senza entrarle troppo nella testa in quella nella testa sbavava per un tale più grande di vent'anni metti i guanti non te ne scordare mai prendi solo due piastrelle alla volta quando vengono fuori dalla bocca del forno una per ogni mano dopo le poggi con delicatezza sul carrello a destra ribadì con delicatezza mi raccomando parlava come se quella roba fosse di sua proprietà come se ogni piastrella contasse davvero qualcosa per lei va bene tranquilla le risposi indossai i guanti e mi posizionai di fronte al forno grande come se fossi al centro di un'autostrada piena di veicoli che mi venivano addosso a fine giornata feci fuori solo quattro mattonelle ma quattro mattonelle non erano affatto poche ogni piastrella rotta diceva Achida è pari a un piatto di couscous rovesciato sul pavimento diavolo avevo buttato quattro piatti di couscous nel pattume non avevo la minima idea di quanto costasse un fottuto piatto di couscous poco male le risposi in questo modo mi attirai la sua antipatia tutti fuori uscite in fretta si raggiunse la voce del capo il caprone c'è un incendio nel reparto de cor forza muovetevi portate tutti le chiappe fuori di qui svelti cazzo uscimmo tutti all'esterno dell'azienda mentre le fiamme divoravano il tetto come cartapesta non desideravo altro il reparto sottostante fu carbonizzato assieme ai vari sacchi di smalti in polvere una lube tossica leggiava sulle nostre teste e mi tornavano in mente certe immagini terribili viste al televisore da bambino ne approfittai per divincolarmi da ogni obbligo e giungere al bar più vicino tra via briganti e via cavur connubio atroce portai con me Livio un tipo piegato sulla schiena come un lampione che varie volte vedevo imboscarsi dietro la pannellatrice o come diavolo si chiamasse la sua postazione di lavoro a fumare a traccannare vino era la persona giusta svoltammo l'angolo ma il bar era maledettamente chiuso per lutto dispengemmo per altri due chilometri percorremmo l'intero viale alberato del paese alla fine trovammo un kebab dalla salazinesca mezza scesa Livio non emetteva grandi suoni dalle corde vocali si limitava ad agitare il capo in risposta per consenso o dissenso quando gli chiesi se avesse gradito una sessantasei gacciata acconsentì agitando il capo su e giù come un barbagianni bevemmo da fare schifo e tornammo allo stabile bruciato il capo ci attendeva al di fuori mi accorsi che oltre a lui non c'era più nessuno allo spiazzale se ne erano andati tutti Livio si infiltrò all'interno del capannone devastato senza che me ne rendessi conto che gran paraculo a quel lampione storto sono estremamente deluso dal suo comportamento signor Rao beh non ha di che preoccuparsi non è il solo facciamo ironia signor Rao giuro che non era mia intenzione signore non pensi di prendersi gioco di me per questa volta non le farò un richiamo scritto vista la spiacevole situazione ma voglio che un comportamento simile non si ripeta mai più sono stato chiaro sì signore adoravo prenderlo per i fondelli il giorno seguente mi venne recapitata una lettera dall'azienda in auto ospitavo elena e adele elena era la compagna di leo un pezzo di pane il mio amico leo peccato che soffrisse di dissenteria cronica e anche quella volta trascorse il tempo a cagarsi addosso al contrario di quando tentammo di accoppiarci con le nostre donne sullo stesso letto tutti orgasmarono tranne me subito dopo la cavalcata però corse in bagno a espellere rifiuti intestinali eravamo diretti in un locale di scandiano poco lontano dalle montagne adele era in tiro lo era sempre più di rado da quando lavorava quella volta era proprio come piaceva a me teneva i capelli sciolti sulle spalle ed era infilata in tacchi alti su un vestitino niente male anche elena era ben messa una gran bella sorca elena in quella circostanza emanava l'odore di una buona scopata impugnavo lo sterzo della renault 5 e pigiavo a singhiozzo sul pedale dell'accelerazione avevamo trascorso la serata avere cocktail e a urlare sugli strumenti di un gruppo rock in certi locali tentare di stabilire un approccio verbale è per lo più impossibile tra gli altri notai la presenza del messicano e dei suoi simpatici amici che si agitavano in pista come porci prima dello sgozzamento nessuno mi prese a calci stavolta non risparmiai me stesso al ruolo del beone l'alcol contaminò bene le vene delle due ragazze che sulla via del ritorno iniziarono a fare cosine niente male sui sedili posteriori ah però dissi dopo essermene reso conto tu guida e guarda la strada rispose Adele io guido e mi tocco l'affare bimba si prospettava una buona nottata se fai il bravo continuò Elena dopo ce ne sarà anche per te non afferravo bene che diavolo stesse prendendo a quelle due ma secondai volentieri la novità la strada era bianca di nebbia non si sarebbe vista una vacca a un metro di distanza e la scena che si consumava alle mie spalle non era per nulla sorvolabile dovevo fare qualcosa sentite io parcheggio e vi disosso guida Filippo per Dio disse Elena con la bocca sul collo dell'altra poi ne avrai anche tu poi e sghignazzava avevo gli occhi piantati nello specchietto retrovisore come diavolo avrai potuto fare attenzione alla strada con quelle due che si avvinghiavano tra di loro allungai un braccio fra le donne afferrai il polpaccio di una delle due le tirai giù la calza e portai su la mano Adele me la guantò e la scacciò con vigore poi strinse la carne dell'altra nel medesimo punto in cui l'avevo mollata io sorridevano mi domandavo a quale gioco si stessero ispirando non certo mi dispiaceva biascicavano fra continue risatine e mugolii un paio di tacchi arrivarono tra il cambio delle marse e la mia mano che lo teneva fermo rischiavamo di fotterci la pelle per sempre l'abitacolo aveva accumulato un possente odore di femmina e tirai giù i finestrini per non farmi rincretinire del tutto ti hai creduto sul serio eh Filippo merda che stai dicendo Adele ti prendevamo solo in giro scemo ridevano come allucinate andate a fare in culo tutte e due accostai l'auto sul ciglio della strada non so cosa avrai voluto fare volevo sbatterle fuori probabilmente prenderle accingiate sul culo come mocciose disobbedienti ma trovai la paletta tesa di una battuglia di polizia sul parabrezza brutti figli di puttana masticai no cazzo sentii dal retro rimettetevi in ordine imposi alle due questi ci inculano abbassai il finestrino il poliziotto guardò in auto e prima di vedere le donne ne annusò l'odore buonasera patente e libretto per favore gli diedi quanto chiesto ha bevuto assunto cocine particolari poi si rivolse a loro e voi risposi per tutti no guardi figuriamoci non bevo mai prima di mettermi alla guida e loro neanche per sogno signor poliziotto va bene lo scopriremo presto la gente mi fece scendere dall'auto e mi portò alla volante aprì il bagagliaio dove sembrava essersi una dannata centrale operativa in miniatura mi chiese di sputare i polmoni all'interno di un tubo di gomma non avevo più scuse che tenevano avevo bevuto troppo e dobbiamo sospendere la patente il risultato del suo test alcolico sfora i limiti consentiti dalla legge io Cristo come farò ad andare al lavoro intanto moderi i termini signor cercò un attimo sulla patente signor Rao non è opportuno mettersi alla guida in stato di ebbrezza né per se stesso né per i suoi passeggeri altresì per preservare l'incolumità di altri automobilisti i calamari indivisa dell'intera nazione ce l'avevano con me adesso ne avevo le prove ero la cavia di un grosso complotto di stato e nessuno me l'avrebbe tolto dalla testa va bene va bene risposi mi dia una sigaretta cortesemente che ho finito le mie mi diede la sigaretta stranamente ad accendere iniziò a guardarmi di traverso poi mi diede dei fiammiferi nello stesso tempo l'altro agente fece soffiare le ragazze che risultarono a posto così potettero riportarmi a casa non ricordo chi guidasse delle due a me trattennero la patente per un mese il lunedì della settimana successiva la solita sveglia rompeva i soliti sogni ero stralunato ripetevo meccanicamente le azioni mattutine cagata bidet mutande gel pantaloni vecchia maglia sfibrata scarponi tutto tranne che baciare adele sulla fronte prima di uscire di casa lei non c'era più nel letto già da un pezzo attaccava alle pulizie un paio d'ore prima di me eravamo sempre più distanti un quarto alle sette avrei dovuto ingegnarmi per poter timbrare il cartellino chiamai Didi per fortuna non era ancora uscita di casa la patente me l'ha fregata un caramaro le dissi si fece una grassa risata che durò quanto il tragitto non chiese altro a riguardo per tutto il mese da spatentato mi ci portò lei in fabbrica Daniela di Masi ovvero Didi e mi riportava a casa alla sera quando staccavamo a volte ci fermavamo a bere qualcosa prima di rientrare altre volte non sopportavo nemmeno di sentirla fiatare arrivamo in fabbrica giusto in tempo quella mattina Didi era troppo fiacca nel guidare malgrado sotto il culo avesse una potente jeep ciao Matilde buongiorno correvo a infilare il cartellino nella macchinetta buongiorno a te Filippo eravamo entrati in una certa confidenza mi accoglieva con un sorriso largo sapeva che non mi soffermavo più di tanto a guardarle i connotati così si dava da fare in scollature sempre più profonde perché io continuassi a concentrarmi sulle sue grazie alle 13 in punto di ogni giorno avevamo un solo quarto d'ora per mangiare presi l'abitudine di portarmi appresso la chitarra in pausa pranzo la tiravo fuori dal bagagliaio per darmi spettacolini risonanti mi esibivo in una saletta dalle pareti ocra e sporche adibita come sala mensa solo per quei pochi minuti al termine del quarto d'ora mi ritrovavo a non aver mangiato la chitarra rianimava un po' tutti in genere io urlavo le mie canzoni picchiando sulle corde Mohammed si batteva sui cinocchi col panino tra i denti Didi e Lisa cantavano con me Akita ci guardava incazzata da un angolo mentre tentavo di leggere passi del corano e qualcun altro ci malediva non si può piacere a tutti dopo aver fatto il pagliaccio sonoro mi convincevo di aver reso più leggere le loro grevi anime poi riprendevo a inserire mattoncini nel grass o a sudare ai forni la polvere volteggiava nella luce che filtrava dalla finestra tagliava il buio e mi terminava sullo stomaco gonfio steso a una spanna dal seno di Adele dormi? chiese a voce bassa no guardo la polvere risposi pensi a qualcosa? nemmeno non so a che pensare sono ipnotizzato dalla polvere si mise su un fianco dandomi le spalle ficcò le mani sotto una guancia a noi pensi ogni tanto continuò avevo una strana sensazione ruotai a pancia in giù non so Ade non mi va di parlarne adesso non ti va mai di parlarne vero? adesso no provo a rilassarmi adesso no ieri no il mezzo scorso no sbuffai scocciato lei si rigirò sul letto perse quella pazienza che già troppe volte le avevo strappato dai nervi me ne accorsi non replicò mi voltai a guardarle la schiena le scesi lungo il corpo con lo sguardo aveva un lembo di lenzuolo che le copriva il fondo schiena le ginocchia piegate l'una sull'altra e le dita dei piedi accartocciate su se stesse per un attimo mi sembrò di vedere una bambina delusa mitigai il mio stato d'animo mi facevo una gran pena e anche lei me ne faceva l'abbrazzai da dietro poggiandole le mani sullo sterno che vuoi adesso? disse seccata niente allora staccati lasciai quel corpo e tornai a mettere le mani da qualche altra parte piantai gli occhi sugli angoli ammuffiti del soffitto mi odiavo non avrei dovuto abbrazzarla merda non avrei dovuto cedere ascolta disse dopo aversi rimuginato non ti arrabbiare Filippo ma credo che tu e io dovremmo dividersi almeno per qualche tempo non so per quanto ma dobbiamo farlo e cosa credi di risolvere in questo modo ne ho bisogno non capisci? ne abbiamo bisogno entrambi ma tu non lo ammetterai mai stiamo tornando ad essere due sconosciuti non parliamo ci divertiamo di rado facciamo l'amore una volta al mese se tutto va bene a te va bene così? ma Cristo che domanda ovvio che non mi va bene così e invece sì tu hai la testa inceppata in tutte le tue belle cose poi bevi da fare pena che cazzo e questa me da fastidio più di ogni altra cosa ma a che diavolo ti serve farlo? mi chiedo l'uomo è continuamente tentato a ricadere negli errori che lo hanno reso felice non c'è uomo che possa sottrarsi alla felicità credo sia l'unica risposta che possa darti davvero idiota la tua risposta ascoltami bene te ne devi andare ne sei convinta? non ti scocci mai di tirar somme? sei lì a segnare i miei difetti come un notaio a puntualizzare se faccio l'una o l'altra cosa mettiamola in questo modo io non me ne vado da nessuna parte mi stai lasciando tu quindi scattò furiosa sei tu che mi stai lasciando invece stupido con la tua passività e non curanza del rapporto poggiò le mani sul letto sollevandosi sui palmi ma un misero posto sei ancora lì dentro per me in quella zucca? hai un'altra donna Phil? guardami in faccia hai un'altra donna? ma smettila di dire fesseria ci sei solo tu in questa maledetta testa e lo sai e in che ordine ci sono? ricadde sulle lenzuola che priorità mi dai fra tutte le altre cosine che ti girano nel cranio ci pensai un attimo ma non riuscii a risponderle te lo dico io che posto mi dai? affermò l'ultimo vedi Phil non ci capiamo proprio più ci diamo sempre addosso per gli stessi motivi senza arrivare a niente la soluzione l'hai già trovata tu no? facciamola finita sono d'accordo perfetto non ti smentisci mai come al solito non capisci un cazzo e tocca a me fare l'adulto feci una smorfia involontaria si si va bene va bene non capisco un cazzo e tu hai ragione tu hai sempre ragione Cristo sei un ingrato egoista cosa bestemmia fare? ah già quasi dimenticavo oh mio signore che immane dimenticanza tu sei il grande scrittore solitario che beve e fuma e bestemmia da fare schifo non è vero? adesso smettila perdio si mise dritta in piedi e tremavano le gambe aveva gli occhi bagnati e il rossetto del giorno prima sbavato sulle guance me ne vado tranquillo vedrai se me ne vado la giornata intera se ne andò a puttana Adele chiamò frettolosamente Viviana la sentì singhiozzare al telefono della cucina qualche giorno prima mi raccontò le fantastiche avventure di quella donna che lavorava con lei nella ditta di pulizie viveva in affitto con un chihuahua chiassoso un cesso demolito dalla ruggine raccolte DVD infinite di malon per masturbarsi e marijuana per conciliare il sonno ne sono sicuro quelle due avrebbero trucidato il genere maschile con le loro frustrazioni non ero triste forse incazzato avevo la mia inquietudine da tenere a bada il frigo vuoto e il bar chiuso sotto casa non dovevo dar più conto alle lamentelle di una donna viva la vita ero distrutto erano le otto e venti di sera quando squillò il telefono cucinavo scaloppine ai funghi una gustosa ricetta che apparteneva ai sacri segreti di Alma una donna sudamericana che aveva lavorato con me in cooperativa qualche anno prima il telefono continuava a squillare chi diavolo era che si permetteva di sturbarmi proprio mentre cucinavo scaloppine non risposi cessò di squillare poi riprese a farlo chi è? mi decisi a rispondere era Frank mezza mano un topo di fogna che avevo quasi scordato esistesse carissimo Filippo come va la vita? è tanto che non ci si sente va una merda hai altro da dirmi? oh questo mi spiace molto che cosa ti è successo? arriva il dunque Frank cosa vuoi da me? senti avrai bisogno di cento euro ma te li restituisco subito eh solo il tempo di risolvere una faccenda Frank in cinque anni questa è la seconda volta che mi chiami ed entrambe le volte lo hai fatto per denaro non ne ho un granché hai ragione ma ti ho restituito quasi subito il primo prestito devi ammetterlo ma sì cazzo è che sono incasinato ai fornelli Frank era un disgraziato campava di truffe e piccole rapina da quanto ne sapevo era appena uscito di galera per contrabbando preci ad essere gentile ci provai va bene passa di qui la settimana prossima di venerdì prima non posso ma non rompermi più i coglioni con queste cose ok? feci una rumorosa risata promesso Phil grazie infinite a venerdì della settimana prossima carissimo sei una persona eccez dai basta leccarmi il culo ciao riagganciai e tornai ai fornelli potevo cestinare la mia cena scaloppine nere come la pece bruciate mi era passata la fame andai al supermercato giù all'angolo di via del mercato a comprare un paio di bottiglie di vino la qualità più economica quella con 50 millilitri di acqua sporca 20 di piscio alcolico e 5 grammi di vino in polvere 75 millilitri di insetticida i soldi stavano per finire e mancavano ancora trappi giorni alla prossima busta paga 824 euro al mese non bastavano neanche per bollette ed affitto mi maledivo per avere promesso quei 100 euro Filippo Dio buono guarda dove metti i piedi non volevo l'aria perdonami camminavo velocemente e tenevo le bottiglie sul petto con un braccio e avevo pestato un piede all'ingresso dell'abitazione poco male del resto se lo meritava entrai in casa stappai una delle due bottiglie e andai a sedermi alla scrivania sbuffavo fumo denso avevo in testa una quantità di parole eccessiva un gran male allo stomaco e più buttavo giù insetticida più sentivo il bisogno nefasto di espellere quelle parole dovevo liberarmene iniziai a battere i tasti del computer bevevo e picchiavo forte ne ruppi uno una t maledetta lo spirito di un buffone si era impossessato della mia mente non avevo granché fiducia in me quella sera scrivevo e tracannavo fumavo e scrivevo picchiai giù più forte andai oltre le battute che richiederebbe il testo di una canzone molto oltre e circa un ora dopo mi ritrovai ad aver scritto almeno tredici quattordici pagine fitte di parole rilassi il tutto almeno un paio di volte e cancellai la metà sembravo esserne fiero poi ebbe una sensazione di sconforto di vuoto ma era un vuoto appagante credo che ogni uomo debba fare i conti con il proprio vuoto un giorno o l'altro improvviso ripresi a respirare regolarmente ripresi a sudare avevo una paura fottuta mi stesi sul divano ubriaco fradicio e ciò che avvenne nelle ore seguenti non me lo ricordo mi svegliai nel tardo pomeriggio del giorno dopo con qualcuno che colpiva la porta apri questa maledetta porta o la scasso sei lì aprimi o merda fiatai mi ero vomitato addosso avevo i capelli umidi di vino sintetico e una mano infilata nel posacenere sul pavimento ero inguardabile filippo sento che sei lì vieni ad aprirmi cristo santo lamentavo un forte male allo stomaco mi stavo uccidendo cercavo di fottere la morte prima che lei mi cogliesse alle spalle arrivo piacicai non riuscivo a dire altro tentai di mettermi in piedi e rimanervici mi tolsi la maglietta imbevuta di vomito mentre sbattevo da una parete all'altra del corridoio aprì la porta era Didi che diavolo ti è successo vieni con me disse mi afferrò per un brazzo e mi trascinò in una stanza da letto sei solo sì solo come una vedova senza figli ma guardate come sei ridotto ho provato a telefonarti più volte non hai mai risposto e mi sono pure preoccupata Dio buono ci mettemmo a sedere sul letto poi mi poggiò una mano sul petto una dietro la schiena e mi spinse giù per farmi stendere aveva il disgustoso ufficio di toccare anziché spiegare mi svestì pareva ansimare mentre lo faceva cercò da qualche parte nel comò e mi infilò una maglietta bianca pulita grazie avevo bisogno di qualcuno che si occupasse di me segna ragazzo non sono mica la tua infermiera sono qui perché il Tedini chiedeva di te era incazzato sul serio perché non l'ha informato che oggi non saresti venuto al lavoro rischi un richiamo e chi se ne fotte dei richiami didi sto da merda non sarei riuscito nemmeno ad aprire bocca se l'avessi chiamato che hai combinato posso saperlo nulla che non si ripeterà ma Dio sarai mica suonato senti non farmi la predica va bene mi guardò in viso seccata annusò l'aria della stanza puzzava di alcol e sudore si alzò e aprì la finestra tornò a sedersi sul letto ce l'avevo proprio attaccata a un fianco mi sistemò i capelli e fece proseguire la mano sulla guancia vuoi che resti per farti compagnia o qualcosa da mangiare lascia stare Didi davvero puoi andare sto molto meglio andò via rimasi intrezzato alle lenzuola il cuscino aveva tracce di Adele un paio di lunghi capelli rossi e lacrime asciutte mi addormentai nuovamente il mattino successivo avevo una cera migliore feci colazione con pane raffermo e abbondante crema di nocciole dimenticata in frigo chissà da quanto come bevanda mi accontentai di scolare il fondo di una delle bottiglie del giorno prima colazione da re mi lavai con acqua tiepida un debole sole dava luce alla neve appena caduta erano le sette e venti era venerdì ed era giorno lavorativo avrei dovuto fare i conti col caprone disprezzavo profondamente quell'uomo presi la vanga dallo sgabbuzzino condominiale liberai l'auto dalla neve e mi diressi in azienda per arrivarci dovevo percorrere in discesa tutta la montagna venticinque ventisette o più chilometri di curve e ghiaccio in quel lasso di tempo architettavo sempre qualcosa iniziavo a pensare di trovare un modo per farla franca avevo del buono tra le mani non era mica male quello che scrivevo non sapevo a chi far leggere i miei racconti e la mia innata inadeguatezza nei confronti della società rendeva le cose ancor meno facili con le canzoni mi era andata male avevo presentato alcuni pezzi a un produttore artistico Zandi mi disse che avevo talento e storie da raccontare anche gli arrangiamenti non erano male ma si parò il culo dicendomi che senza un buon portafogli neanche Freddie Mercury sarebbe stato mai Freddie Mercury con questa affermazione pisciò fuori dall'orinatorio non mi rivide più e chi se ne frega delle canzoni pensai d'altronde il mondo intero era già pieno di aspiranti cantanti e poeti e io non ero altro che uno di quegli innumerevoli illusi a mio favore però avevo una certezza forse l'unica che mi appartenesse ero consapevole di saper mettere insieme del buon materiale letterario di essere un bravo scrittore ma si sapevo descrivere con stile senza fronzoli senza sprechi roba che appartiene solo ai grandi autori beh al momento mi toccava sudare ai forni presto tardi ne ero sicuro quel momento sarebbe arrivato i miei colleghi avrebbero rivelato ad amici e parenti oh sì io ci ho lavorato assieme l'ho conosciuto di persona era un buono a nulla non è alto nemmeno tanto bello ma quando si è dalla tastiera accidenti si trasforma in un dio strada e fantasticherie terminarono presto parcheggiai ed entrai in azienda passando dalla reception come tutte le mattine ah buongiorno filippo disse matilde vai su in ufficio prima di metterti all'opera il signor tedini ti deve parlare mi veniva mi veniva il volto a stomaco solo nel sentirlo nominare salgo subito ben tornato signorino si accomodi mi accolse beffardo sentivo lo stesso odore del primo giorno erano trascorsi almeno quattro mesi da allora ero tornato nella stalla del caprone mi dica perché non sa cosa ho da dirle posso provare a lanciare i dadi o a leggere nella sfera di cristallo se vuole vedo che non si è tolto il vizio di rispondere con battute fuori luogo signor Rao si agitò sul serio battendo i pugni sul tavolo mi ascolti gli dissi no ascolti lei mi piantò davanti il foglio del richiamo non ancora firmato le dice nulla questo ecco volevo spiegarle certo deve farlo gli risposi ad occhi bassi non riuscivo a muovermi dal letto quella mattina deve credermi mese una sigaretta in bocca e l'accesi ma che cosa fa spenga quella sigaretta odio il fumo è vietato fumare qui dentro tentavo di coprire questo maledetto odoraccio di stalla con un po' di fumo dissi per tutta risposta Rao lei è un gran maleducato le firmo immediatamente il foglio di richiamo è molto fortunato che non la sbatto direttamente fuori a calci che persona indisciplinata lo faccia mi sbatta fuori a calci non continui a provocarmi mi guardò rabbioso riducendo in mille pezzi il foglio che stringeva tra le mani accese il computer trovò un nuovo modulo da compilare dopodiché lo stampò me lo porse lo firmi guardavo il foglio e il suo naso non mi saltava null'altro in mente che ridere su una faccia più disgraziata della mia non lo feci firmai e andai a lavorare una settimana dopo circa contattai un tal Alberto malfatti editore milanese dalle qualità improbabili avevo trovato il numero una sera appiccicato al lampione delle puttane l'editore mi invitò per la settimana seguente a Milano nel proprio ufficio dopo che gli avevo fatto recapitare uno dei miei racconti nel petto di ogni meretrice brilla una donna la mattina dell'appuntamento ero reduce di sbronza e avevo dormito sul divano per non sporcare di vomito le lenzuola una volta sveglio ingoiai le mie pastiglie andai in stazione e presi un intercity poche ore dopo arrivai alla stazione di Milano mi scervellai per trovare la metro giusta e infine giù di gambe non mi leggevo in piedi camminai e camminai le auto sembravano centinaia di cimici colorate intente a spruzzare veleno i palazzoni sfioravano le nuvole mi fecero sentire più piccolo e insignificante di quanto non fossi già arrivai a stento sino all'indirizzo segnato quartiere quarto giaro via lungarone scovai il palazzo giusto erano un mucchio di gambe infilate nella ringhiera del balcone di fronte pendevano nel vuoto erano gambe magre di donne nere poi un uomo bianco con la schiena al muro brutta faccia quel tipo urlò di entrare in casa e le gambe sparirono evidentemente non ero uno dei soliti clienti il citofono era strapieno di piccoli tasti e di etichette consunte pigiai l'unico pulsante leggibile matti da legare edizioni bi malfatti mi rispose una voce roca e balbettante l'aspettavo quinto piano salga mi aprì e riappese il citofono l'ascensore era guasto e mi toccò salire consumando ancora le mie povere gambe feci i gradini a gattoni merda non terminavano mai la porta era succhiusa lo scimpanse balbettante gridava stonato dall'interno si si accomodi pure l'incontro avvenne in un piccolo appartamento faticente entrai restai imparato al centro della stanza ma infatti non mi guardava era piegato di schiena in un cumulo di scartoffie sulla scrivania mi avvicinai a lui saltò giù mancava solo che bruciasse una balana e si battesse il petto sono le undici cinque minuti ancora e avrei chiuso l'ufficio mi scuso ho avuto qualche problema con i mezzi di trasporto risposi allora qual è il titolo del suo racconto di cosa parla all'interno di questi fogli c'è qualcosa di interessante da leggere insomma mi riempì di domande in un fottuto secondo poi alzò lo sguardo su di me credo di sì gli risposi gliel'ho spedito almeno una settimana fa non lo ha neanche letto immagino mi faccio a controllare sulla scrivania se ah ecco il manoscritto afferro i fogli si è acceso un mezzo sigaro gli occhialini gli scivolavano sul naso inizia a balbettare la storia e terminò di farlo in poco più di un quarto d'ora buono c'è qualcosa di buono adesso dipende da lei disse mentre cercava dell'altro tra le cartacce sparse che cosa dipende da me si fermò dal suo fare gobbo sulla schiena il suo manoscritto ha bisogno di una robusta correzione abbia bisogno di uno come me che le metta posto il lavoro e non sto qui a soffermarmi nello specifico ho troppo da fare adesso ecco se me lo lascia per venerdì prossimo avrò già la babbozza pronta lei ritorna qui mi porta altri racconti assieme alla seconda parte del compenso e tenteremo di mettere giù un lavoro fatto come si deve secondo compenso quando le avrei corrisposto il primo il primo me lo darà adesso io le correggerò il manoscritto e ci rivedremo per mettere appunto il resto mi ridia quei fogli per cortesia io ho diritto al mio compenso ho perso del tempo prezioso per riceverla purtroppo sono io ad aver perso tempo mi ridia dei fogli stropicciati come carta da culo esigo la mia parcella adesso sono 30 euro per il disturbo che grazie poi sparisca e non si faccia più vedere e lei si faccia fottere a modo ma come diavolo si permette esca fuori di qui esplose balbettava più forte mi venne addosso e gli mollai un ceffone da fargli ruotare la testa poi mi fermai a fissarlo per non dimenticare che sembianze avesse una faccia da culo uscii fuori ritrovai quelle gambe appese e in un paio di secondi sparirono nuovamente entrai in un bar sulla strada un posto addobbato a festa da bandierine colorate gli sgabelli erano lì da 30 anni almeno e sapevano di flatulenze intestinali ordinai mezzo whisky con ghiaccio nello stesso tempo squillò il telefono frank mezza mano dio santo mi ero scordato del centone carissimo dove sei sono sotto casa tua sto scassando il citofono a furia di pigiarlo i miei soldi ricordi oh merda frank l'ho scordato sono a milano a milano ma che diavolo ci fai a milano io ho un maledetto bisogno di quei soldi amico vediamoci domani sera alle 8 domani mi farò trovare coi cento domani sarà tardi per dio ne ho bisogno adesso non posso spiegarti al telefono cazzo chiusi la chiamata quella storia non mi interessava avevo già le mie noie da digerire dietro al banco c'era una donna dai capelli color platino raccolti in una cipolla indossava una minigonna nera che le copriva giusto giusto il sedere finalmente il cielo sembrava ricordarsi di me senza dubbio quella fu la parte migliore della giornata svuotai il bicchiere e non ci pensai più lasciai 5 euro sul banco 3 e mezzo per il whisky e il resto per il mappamondo strinsi il fascicolo sotto una cella e me ne andai entro sera rientrai in casa trovai una busta nella cassetta delle lettere non era affrancata mittente tedini e gisto azienda ceramiche d'autore snc chiusi la porta con un piede rimasi impietrito in corridoio aprì la busta oggetto richiamo disciplinare e grezzo signor Rao Filippo con la presente la informiamo che in data 13.2.2004 è stato accertato che lei si è assentato dal suo posto di lavoro senza aver fornito alcuna indicazione all'azienda le ricordiamo l'obbligo di svolgere l'attività con la dovuta diligenza e di astenersi dal tenere ancora il suddetto comportamento ai sensi dell'articolo 7 della legge 300 1970 le sono concessi fino a 5 giorni di tempo dalla data di ricezione della presente lettera per inviare le sue memorie difensive presentarsi presso il nostro ufficio del personale al fine di chiarire l'accaduto istinti saluti Fiorano Modenese Movena giovedì 13.2.2004 firma Egisto Tedini era fin troppo evidente che qualcuno si fosse scomodato dalle ceramiche per imbucare la lettera di persona bene pensai mi diressi in cucina voltai il foglio dalla parte non stampata e feci un bel disegnino schizzai la faccia del caprone con lunghe corna che gli finivano su per il culo mi sentivo tremendamente ridicolo nel compiere quel gesto solo accartocciai il foglio presi l'ultima birra in frigo e andai a coricarmi almeno una volta al mese perdevo profondamente stima di me stesso ero in preda alle insicurezze e finivo come al solito nel rifugio che le teneva a bada non riuscivo ad afferrarmi passavo la giornata a convincermi che in quel modo fossi salvo salvo dagli altri ma io ero diverso dagli altri la loro vita trascorreva nelle partite di pallone in tv e nelle cene con i parenti non li invidiavo affatto io stavo continuamente in bilico su una corda come Philippe T tra le Twin Tower e poi andava a finire che cadevo solo quando tocchi il fango riesci a dare grazie al sole i miei amici sì che erano riusciti a salvarsi avevano un buon lavoro appagante una bella macchina questa tarate un dio misericordioso che ascoltasse le loro idiozie e una donna al seguito disposta a sorbire tutto il resto sì io ero più di quanto non desiderassero quei bravi cittadini soddisfatti oh Cristo se lo ero io ero un creativo ero al di sopra del fango nonostante vi affondassi continuamente erano trascorsi alcuni mesi del primo giorno delle ceramiche d'autore e la tristezza di quel luogo mi aveva inglobato quasi completamente credo fosse una sera di fine febbraio del nuovo anno del cazzo e comunque sia la mia stima copulava con qualcun altro sprofondavo sul divanetto lurido della cucina e mi guardavo attorno il televisore era lì pronto ad annientarmi il cervello lo lasciai spento bevi caffè corretto con del vino una totale schifezza e accesi una sigaretta dopo l'altra fino a svuotare il pacchetto il corpo di Adele non era più fra i piedi avrei avuto una serie di cosine da farvi su quel corpo iniziavano a mancarmi sul serio le sue gambe il letto era sfatto da giorni sopra e sotto la scrivania morivano lattine e bottiglie vuote di ogni genere alcolico mentre la polvere copriva le superfici tutto sommato stavo bene in quella topaia ma quel corpo dio santo quel corpo lontano dal mio letto non mi stava per nulla bene dovevo cercare Joyce era l'unica via d'uscita l'unica vera matta che mi avesse donato un po' di considerazione avevo bisogno di ricomporre un ego fatto a pezzi scesi le scale a due a due mi contenni e lasciai i cristi al loro posto incontrai l'aria sul pianerottolo del primo piano lei saliva indossava indossava un paio di leggins che le scoppiavano sulle cosce sudava da ogni parte le diedi la precedenza grazie phil almeno stavolta non mi pesterai un piede passa pure dove vai così di fretta a comprare le sigarette una di queste sere viene a trovarsi con Adele io e Jackie ci domandiamo spesso di voi ah sì e cosa vi domandate di bello dissi mentre cercavo di infilarmi tra lei e la parete beh ci domandiamo ad esempio perché non veniate più a trovarci ci piacerebbe avervi a cena una volta a scambiare quattro chiacchiere assieme va bene Ilaria vi farò sapere scusa ma adesso devo scappare riuscì a divincolarmi dalla sua banalità quasi dimenticavo non so se ne sei al corrente cos'altro c'è ancora oggi nel pomeriggio proprio sotto casa hanno accoltellato un uomo venticinque coltellate oh dicono sia in fin di vita poverazzo merda chi è non saprei pranzavo da mia suocera durante l'accaduto ne parlavano in strada Gesù Cristo che cosa ti prende Filippo senti l'aria grazie della dritta sempre notizie di merda tu eh continuai a scendere lei a salire e ascolta aspetta gridò dal secondo piano è un po' che non vedo Adele come sta scesi senza darle altro ascolto entrai in auto ingranai la prima e sparì arrivai davanti al locale in cui lavorava Joyce era chiuso le ballerine stavano probabilmente provando lo spettacolo che avrebbe accalappiato altri cani randagi bussai al portoncino blindato venne ad aprirmi un tizio davvero brutto coi baffi unti di sugo mi guardava da una fessura che vuoi il locale è chiuso apre alle 23 ruttò rinchiuse bussai di nuovo che cazzo vuoi ancora senti pezzo di merda non sono qui per te ho altri gusti ho bisogno di vedere Joyce spalancò il portoncino mi sparò dell'alito di pollo sul naso quella rogna se n'è tornata al suo paese contento? e ora vattene anche tu prima che ti riduca la faccia a una poltiglia di ossicini lotti rientrò nel pollaio non trovai neanche la forza di reagire a cosa sarebbe servito reagire? strinse una sigaretta fra le dita senza accenderla e restai lì fuori come un fesso porca miseria Joyce mi hai fottuto di una cosa ero certo non avrebbe mai lasciato il mestiere ne piaceva troppo adorava eccessivamente far drizzare i cazzi era un lunedì mattina nebbioso in fabbrica mi fecero affiancare Didi lei spruzzava sulle piastrelle la solita vernice bianca e successivamente io le sistemavo a modo sul carrello arrugginito al taglio Mohammed e Abdul tranguravano grappa senza dar conto al capo se ne fregavano del proprio e di qualsiasi altro dio erano strani musulmani talmente strani che mi piacevano sul serio dopo una prima mezz'ora Didi e Dio ci appostammo alle spalle di una cisterna per fumare marijuana ne teneva un pezzo nel reggipetto allora come va Filippo come vuoi che vada espirai del fumo dimmelo tu testone sei sempre tanto silenzioso spostai la faccia dalla chioma al fumo è questo luogo questo deprimente posto mi sta ammazzando qualsiasi lavoro mi ammazzerà non lo giudicherai tanto fosse in te senti ho altro per la testa io non starai bene in nessun posto va meglio così la tua serenità devi cercarla qui dentro prima di tutto mi indicò il petto mi fissava con un paio di occhioni azzurri e felici felici di guardare il sole anemico che superava le montagne ogni mattina felici del fine settimana trascorso in un raduno di fedeli cristiani felici di quello sporco mestiere o di qualsiasi altra cosa che io non comprendevo decisi di continuare a non comprendere è in questo modo che voi lavorate il capo ci sorprese aspettavo quel momento come il giorno di paga senti un po' mio caro egistuccio hai rotto egrezzamente i coglioni Filippo Rao urlò così forte da far rimbombare la voce per tutto il capanno questa volta si è giocato il posto venga immediatamente con me ma che diamine hai fatto Filippo sussurrava Didi mentre mi allontanavo dalle lamiere la guardai le strizzai l'occhio mi voltai e segui la sciannauseante del caprone arrivamo nel suo stupido ufficio si sieda non abbiamo null'altro da dirci tornerò per la liquidazione che mi spetta non fiatò fece solo un cenno con la testolina sembravamo esserne felici entrambi in serata chiamai Adele prese il coraggio di farlo solo dopo essermi scolato mezza boccia di scotch ero brillo quasi ubriaco o lo ero del tutto poco importava dovevo aiutarmi che vuoi Filippo oh mio dio ti ho disturbato giovane donna single hai bevuto vero si tanto bevi si sente da come parli ti stai ammazzando con le tue stesse mani in fin dei conti sono fatti tuoi allora perché mi hai chiamato ho una gran voglia di fotterti oh non sai quanto ho bisogno delle tue cosce aperte e di tutte le cosette che sei in grado di fare mi manchi Adele che fai vieni qui sei un maleducato senza vergogna te lo ripeterò fino all'ultimo devi farti curare Filippo devi farlo si vabbè quasi dimenticavo stamattina mi hanno licenziato contenta smisce di fiatare mi hanno sbattuto fuori cercavo un modo per farle pena la vuoi sapere una cosa Filippo mi hai delusa profondamente fino a ieri pensavo che forse la lezione ti fosse bastata pensavo di tornare a casa di riprovarsi come al solito sono un'ingenua una stupida la sentii piangere non immagini la tristezza che provo sei un'incosciente uno stronzo non mi vedrai mai più ehi e dai a Dele non ricattare porta qui anche la tua amichetta ci divertiremo un casino in tre rispose al nulla aveva già chiuso la chiamata quando mi passò la sbornia iniziai a rendermi conto di ciò che avevo combinato sentivo lo stomaco irrigidirsi per aver trattato a Dele in quel modo come il peggiore scarto femminile che avessi mai conosciuto fuori era buio iniziai a percorrere una stradina qualsiasi camminavo senza senso c'era un freddo avvilente dovevo gridare al paese intero con tutta la voce che riusciva a venirmi fuori sono un fottuto coglione e vaffanculo che la borgata potesse pure udire il mio dolore dalle finestre serrate o dai letti bagnati di morte o sporcati dai liquidi di una sveltina le loro vite rassicuranti dovevano sapere che razza di fallito ero diventato non ne ebbi il coraggio mi comportai da vigliacco mi piegai su una panchina del centro desertico mi ci trascorsi mezzanottata fumai una decina di sigarette poi la temperatura si abbassò maggiormente e non mi dia di altra scelta che di entrare in casa e ficcarmi a letto qualche giorno più avanti appresi dal quotidiano d'appennino che l'uomo accoltellato sotto casa era proprio Frank mezzamano 25 coltellate non erano riuscite a mandarlo all'inferno e gli ultimi mesi spacciava coca credendo di fare il furbo con chi al posto dei coglioni aveva un paio di bolle al larenzo piano povero figlio di puttana arrivava per tutti una resa dei conti per cani porci e scrittori anche per le mignotte di lusso arrivava solo che per loro giunge sempre un po' dopo invitai riuscito dopo aver mangiato mi chiese di imbrazzare la chitarra e di cantare per lei era convinta e la contentai sono sicuro che tentasse di impossessarsi della mia mente a me bastava molto meno non avrebbe mai avuto la mia mente le versai da bere dello scotch erano gli ultimi tre quarti di boccia che conservavo nello stipetto poi riempì il mio bicchiere e buttai giù alla tua donna alla tua uomo bevi e strimpellai degli accordi adoro gli artisti sono così volubili sembrano vivere in un mondo tutto a sé lontano dalle convenzioni disse proseguendo con altre furbate simili in gonna e tacchi quella donna era qualcos'altro annusavo una sorta di femminilità repressa nel trucco pesante che le addolciva i lineamenti aveva un paio di gambe massizze accavallate e inchiodate in fianchi stretti pensavo che le sue gambe non fossero per niente paragonabili a quelle di Adele oh no di certo e tenevano su un corpo sbilanciato dal peso di due interessanti emisferi su cui planare sarà stata la solitudine lo scotch lo squallido autoerotismo quotidiano o la gonna e i tacchi che indossava che riuscirono a suscitare in me uno strano interesse sessuale mi domandavo se avesse cavalcato solequini da aratro tozzi e resistenti mi avrebbe sfiancato ma era seduta di fronte sulla seggiola in legno ed io affondavo sul divanetto insieme alla chitarra si accorse che iniziai a fissarle le gambe non riuscivo a farne a meno ne sono sicuro la colpa la colpa era tutta dello scotch le discuse leggermente le disse che aveva un bel paio di cosce mentivo spudolatamente ma se ho delle gambe orrende non ne parliamo ti prego non guardarle anche lei mentiva voleva eccome che le guardassi mettila così le tue gambe sono una delle morti possibili vieni le versai dell'altro scotch una delle morti andiamo bene allora rise e sorseggiò io scorreggiai silenziosamente merda succedeva sempre nei momenti meno opportuni quando ero terrorizzato da qualcosa ad esempio e quella situazione mi inquietava non poco spalancò le fauce di carne pallida fingendo indifferenza continuava a bere e a ridere e ad allargare l'ingresso di un paradiso disboscato indossava delle mutandine velate e teneva su un paio di calze come rete da soppressa le baciai un ginocchio prosegui lungo la coscia e le arrivai fino in fondo finimmo sul tavolo schiacciando le poesie me lo serrò tra i denti non ne vedeva uno dall'inverno scorso confessò gridai come un dannato porca puttana didi mi ammazzi in questo modo se ne fregava delle mie suppliche mi afferrai una ciocca di capelli e le sbattei la testa sul divano a ripetizione sembrava piacerle poi si spogliò completamente ma le consigliai di lasciarsi su le auto reggenti doveva tenere qualcosa indosso che mi distraesse dal resto aprì la bocca solo per fiatare altre richieste le mollai un solido ceffone su una chiappa e poi uno sull'altra lo feci più forte che potevo il freddo della montagna l'aveva indurita troppo concludemmo di accoppiarci sul pavimento venne con le sue bocce piantate sulla faccia lei fece prima di me credo che l'abbia sentita urlare tutto il condominio forse Ilaria e il suo fantastico giacchi erano lì ad origliare dal pianerottolo accesi una sigaretta e sintonizzai il piccolo televisore su un noioso notiziario poi mi stravaccai su una sedia iniziai a provare un fastidio in gola mi venne una sete terrificante Cristo avevo una notevole quantità di capelli annodati all'ugola non potevano essere che suoi telefonai al caro fast food sotto casa oh davide portami da bere che cosa ti porto phil birre birre una cassa da sessantasei merda fai presto ho delle dannate liane strette in gola firmai sull'agenda del fattorino che arrivò prestissimo gli iscrissi a credito ma lo mandai via con un paio di euro di mancia starpai e bevi non ti rivesti le dissi mentre le liane si slacciavano dall'ugola voglio restare un po' così nuda non ti va che resti nuda feci finta di non sentirla beh se non rispondi vuol dire che sei d'accordo replicò a voce bassa senti Didi la vuoi una birra ma si dai qua e poi metti qualcosa addosso per favore indossò la camicetta stappò un'altra birra si incollò alla bottiglia e più trangugiava più le svaniva l'effetto di qualche pozione magica assunta poco prima anch'io stavo svanendo svanivo assieme agli spiriti di Giorgio Gaber e Barry White svanivo e in Cina scoppiava la SARS poco dopo iracheni e americani uniti da qualche droga sintetica abbatterono uniti la statua di Saddam Hussein svanivo e sul Texas scoppiavo lo Shatley Columbia la puttana del lampione giù in strada contraeva l'AIDS ad ella intanto mi aveva già mollato da un pezzo Ernest il barista schiattava in ospedale per un ictus e nessun Cristo gli teneva la mano mentre la morte gli spaccava le vene il mio frigo chiedeva alcol e io svanivo nelle mie scopate da quattro soldi merda tornai in me dopo la terza birra andai in salotto al computer non curante della sua presenza iniziai a battere sui tasti nevroticamente speravo che la sfumasse come un fantasma ma era abbastanza solida da continuare a rompermi l'anima non tardò a raggiungermi che cosa scrivi dai fammi curiosare un po' ehi sta buona adesso righiai come un canno rognoso e coprì lo schermo con tutte e due le mani dai testone togli quelle manacce sorrise allora vediamo un po' cominciò a sbirciare e leggere ad alta voce quella notte non riuscivo a dormire le lenzuole erano zeppe del suo odore e avevo i polpazzi attannagliati dai crampi era girata su un fianco mi dava la schiena aveva le chiappe nude che luccicavano alla finestra aperta e le carezzai poi le baciai con tenerezza roba che raramente mi appartiene era stata una grande scopata quella pelle liscia fece tramutare la mia insonnia in una sete tremenda mi alzai presi del vino nel solito stipetto ne bevi un sorso e mi accasciai sul pavimento fresco e sporco oh ma che bravo tocchi e baci il mio sedere quando dormo e poi che fai vai a bere anziché svegliarmi e insomma contento tu non parlo di te Didi non sei tu quella donna diavolo ti avevo detto di stare buona smise di fiatare si agzittì all'istante ma che accidenti si aspettava che scrivesci di là in quel modo al massimo l'avrei descritta come una sufficiente porcata del venerdì sera nulla di romantico null'altro torno in cucina annunciò seccata senti ho bevuto troppo ho le dita che battono sui tasti ma la mente è altrove credo che non ne uscirà nulla di buono ascoltami le tesi un braccio stavo scivolando nel solito senso di colpa ma figurati prego my lord continua pure a fare lo scrittore non devi mica giustificarti d'altronde chi cavolo sono io per interferire con la tua vita privata si voltò di spalle repentinamente disse tutte cose giuste la guardavo allontanarsi che sculettava rigidamente mi lasciò solo ma ormai era tardi aveva interrotto tutto che andasse pure al diavolo lei e la sua fottuta gelosia in quanto a me ero solo un ingrato senza spina dorsale sì questo ero il mattino seguente la ritrovai sul materasso che mi ficcava un ginocchio nello stomaco non era la donna che avrei voluto rivedere il giorno dopo non mi andava ad sorbire altri odori mattutini oltre ai miei eh sveglia bella sono le nove e un quarto era piantata con la faccia sul cuscino oh svegliati su su cercavo di scuoterla avevo un brutto mal di testa sembrava crogiolarsi nella scopata della sera prima meno ti piacciono e più te le ritrovi appiccicate ai coglioni dissi fra me e me presi il lenzuolo dal pavimento e le copri per bene la schiena e quello che ne aveva al di sotto mi girai dall'altro lato e richiusi gli occhi non riuscii a riprendere sonno appena sveglia dovrà sloggiare pensavo queste parole mi rigiravano in testa senza tregua circa alle dodici scendemmo in strada a cercare una tavola calda non avevo nulla di commestibile in casa che non fosse scaduto da un pezzo tranne qualche tosto già mordicchiato per mia fortuna avevo ancora un paio di banconote da cinque nei pantaloni vieni Filippo prendiamo la corriera perché dove vuoi andare andiamo a fare un giro giù in città conosco un'ottima tavola calda lì serve dei panini buonissimi e poi vorrei tanto rivedere la mia Modena piazza Grande il Duomo chissà se quel grazioso negozio di Waffel è ancora aperto in piazza Roma saranno almeno due anni che non ci vado diceva il tutto con aria fastidiosamente sognante le curve della montagna mi avevano fatto venire il volto a stomaco tentai di trattenermi sino al capolinea in una quarantina di minuti arrivammo in stazione dove trovai un angolino niente male per abbandonarci lo stomaco seguì Didi che sapeva dove mettere i piedi arrivammo in piazza c'era una vecchia gelateria sotto le arcate Didi la pubblicizzava come fosse la migliore gelateria di tutto il quartiere di tutta la città del pianeta intero cazzate le risposi non mangio gelato Didi non mangi gelato sarai la prima persona che conosco che non mangia gelato è così non mangio gelato preferirei qualcosa di solido da mettere in panza a proposito nei dintorni c'è per caso una birreria Filippo dovresti moderarti col bere per favore Didi dovresti farti gli affari tuoi per favore ok stupido a 200 metri da questo lato c'è un wine bar vai e fottiti si incazzò si comportava come se fosse la mia donna non avevo bisogno di altre donne che mi guidassero verso la salvezza ma tutte hanno l'istinto di doverti salvare da qualcosa mi guardò per un attimo in modo strano poi distorse gli occhi altrove l'avevo fregata mi faceva una gran rabbia andai al wine bar lei rimase fuori la gelateria a leccare il suo mondiale pistacchio e nocciola la baracca dei Waffel era ormai deceduta dopo un po' ci ricongiungemmo e proseguimmo arrivando al cospetto dell'uomo riprese il sorriso si gettò appieno nella narrazione di una leggenda riguardo la costa di Drago esposta in una nicchia sulla sua facciata io davo retta solo al dolore che provavo ai piedi nel calpestare quei maledetti sassi ecco Filippo siamo arrivati quella è la tavola calda di cui ti parlavo bene occupammo posto all'esterno mangiamo rollè ben farciti e della pancetta fritta ci bevvi su una Weiss anche Didi ne prese una eravamo tornati di buon umore tutto merito della pancetta alzammo i boccali all'uomo e a quel maledetto osso di chissà cosa passò qualche tempo dalla storia dei rollè un mese o due capitava che ogni tanto Didi e Dio ci incontrassimo per scopare avevo riguadagnato la solitudine ma scopavamo era buona per quello sì occorreva solo ubriacarmi per bene prima di farlo in seguito ci accorgemmo di non avere più nessun motivo che ci accumunasse non affrontammo il discorso ci limitammo a non vedersi più e c'è un po' i conti con la situazione che mi girava attorno forse era la prima volta che pensavo davvero di cambiare tutto mi domandavo se fosse possibile che mi comportasse in quel modo per paura di sprecare tempo di trovarmi troppo avanti con la vita di guardarmi alle spalle di non aver concluso un bel niente ma l'effetto che stavo procurando a me stesso e a chi mi ruotava attorno era il contrario di quello sperato a questo punto più che mai desideravo la mia redenzione terrena quella a cui le autentiche puttane e le suore fasulle non credono quella che alcuni operai non cercano quella in cui la maggior parte degli uomini trova nelle partite di calcio la domenica pomeriggio nelle auto nuove di pacca nelle vacanze estive oltreoceano o in qualche frettolosa scopata con le amanti il mondo intero mi appariva in un aspetto arido e giovani come me non facevano altro che piegare la testa sui libri o stringersi un pugno sul pisello o la sera a farsi di acidi e di lì a poco si sarebbero fottuti ogni prospettiva il sistema li avrebbe inghiottiti divorati e poi rigurgitati come uomini grigi fra miliardi di uomini grigi probabilmente era proprio questo il finale che avevano pianificato quei ragazzi perdere ogni identità spero che qualcuno si sia salvato sul serio da sé dal rullo politico che appiattisce le esistenze dalla banalità io non volevo diventare uno di loro accidenti anche se tutto il resto mi spingeva a farlo non volevo trasformarmi in un anonimo uomo grigio tra miliardi di uomini grigi io avevo un talento cazzo prima o poi l'avrei realizzato qualcosa di buono avrei ottenuto la mia dannata redenzione almeno in terra era una tarda serata di primavera ma le strade sembravano non volersi liberare dai residui di ghiaccio e neve sporca accantonati per lo più lungo i marciapiedi concretizzai l'idea di giungere al rifugio degli autori un locale aperto da poche settimane a quella parte non lontano dal frignano il nome non era male dava solo un po' di nausea bisognava constatare se il servizio ne fosse all'altezza trovai parcheggio tra due auto di grossa cilindrata provavo a immaginare la comodità dei sedili in pelle al loro interno in compagnia di una bella donna avevo decisamente abusato di fantasia ordinai un drink c'era molta confusione e troppi specchi in quel rifugio non avevo e non ho tutt'oggi un buon rapporto con gli specchi e la frustrazione generata dalla situazione in cui mi trovavo tornava indietro come carta vetrata sfregata sullo scroto la ruvida faccia butterata che mi portavo a spasso lo era anche il personaggio sfrontato che usavo per coprire le inadeguatezze aveva quella stessa consistenza quanto mi appartenesse era maledettamente destinato a provocare dolore anche se non ho mai saputo chi colpisse per primo se me o chi aveva a che fare con me così presi il drink e andai a sedermi su una panca all'esterno mi sentivo sollevato mentre accendevo una sigaretta alla mia sinistra una coppia sorridente abbandonava il locale pensavo che sarebbe durata il tempo di una scopata la felicità di quei due le gambe della donna non mi erano affatto nuove sollevai lo sguardo oh ma guarda chi si rivede disse ad alta voce phil sussurro lei sorpresa poi strinse la mano di quel babbeo al suo fianco e lo portò con sé verso l'auto di fretta li raggiunsi col bicchiere in mano aprimi la portiera giacomo disse lei su giacchino forza apri la portiera alla bella donzella qui presente urlai divertito guarda filippo lo so a cosa pensi rispose preoccupato hai tutto il diritto di pensare a quello che stai pensando ma sono sicuro che ti sbagli allora ti spiego le cose come stanno ehi faina dei mezzabedei riciclatore di donne altrui solo una cosa vorrei sapere da te come cazzo fai a sapere che diavolo mi passa per la testa in questo momento taci filippo smettila di fare lo scostumato poni subito le tue scuse a giacomo intervenne lei poni le tue scuse buttai fuori una grossa risata ma come cazzo parli adesso adele ehi disse il babbeo zitto tu gli risposi tu non mi zittisci in questo modo intesi fattone gli dedicai un fragoroso applauso tenendo il bicchiere tra i denti quindi lo ripresi in mano e lo svuotai in corpo fino all'ultima goccia poi lo gettai sull'erba vi faccio i miei migliori auguri fidanzatini o amantini come udir preferiate in ogni modo non mi interessa prima di abbandonarli mi rivolsi di nuovo al babbeo ah ascolta finocchio un'ultima cosa adele è stata abituata in un certo modo con me capisci vero ma questo credo sia un problema che non ti riguardi tu a malapena lo indurivi con la tua dolce Ilaria fanculo fanculo tu sbruffone che non sei altro strense un pugno e lo puntò verso di me non ti schiaccio in seduta stante solo per il rispetto che ho di Adele dai sali in macchina Giacomo andiamocene lo supplicava lei dal finestrino vai Gianchi sali in macchina svelto e in quanto a te mi rivolse alla donna non ti biasimo non saresti rimasta solo per molto tanto meno saresti tornata da me dopo quella maledetta telefonata ma dovevi essere proprio a corto di fantasia per accoppiarti a questa mazza di scopa pelata dalle palle flosce chiuse il finestrino senza rispondere anche mister Gianchi entrò in auto accese il motore e accelerò sulla strada li guardavo che andavano spediti avrebbero scopato quella sera maledizione ci avrei scommesso il culo e io avrei passato un'altra nottata da bel varandagia o a sbronzarmi davanti alla tastiera del computer avevo la barba incolta e un mucchio di contravvenzioni nel cassetto della credenza avrei dovuto pagarle il prima possibile negli ultimi tempi non facevo altro che collezionare sanzioni stradali se la gente comune aspirava a tenervi solo dei sogni nel cassetto beh io l'avevo battuta alla grande defecai soddisfacentemente raccolsi quelle sei o sette buste verdi e mi diressi al comando di polizia locale per saldare il debito ci volle almeno un quarto di liquidazione del caprone per togliermele dalla vista dopodiché pensai bene di consumare in birreria gli ultimi venti euro che mi rimanevano in tasca entrai in birreria in quel luogo il proprietario permetteva ancora ai clienti di fumare ma solo sigarette non voleva altri guai dopo aver subito la visita delle forze dell'ordine per consumo illecito di hashish prese una bottiglia e un paio di bicchierini adele vaffanculo cin e giù il primo zanchino fammi un pompino cin e giù il secondo alla faccia di quel test apelata dalle palline mosce cin giù il terzo ehi udì la voce proveniva da qualcuno alle mie spalle sì risposi e continuavo a buttare in gola dell'altro whisky gianchi al pisello fossile cin ehi cazzo voltati mi voltai che vuoi avevo davanti una faccia con pochi denti abbastanza precedenti ma che diavolo blatteri ho un po' di neve ti occorre disse neve la prenderai in strada se ne volessi ce n'è ancora abbastanza accantonata ai marciapiedi bamba biancaneve coca stupido hai mai sentito parlare di cocaina quella roba magica che ti fa sentire da dio anche se sai benissimo di essere una nullità disse a bassa voce e tu hai interrotto il mio brindisi per dirmi questa cacata non mi faccio di quella roba ma sei un segaiolo o cosa con chi cazzo brindi con me stesso è una specie di rituale montanaro ti interessa risi rituale montanaro tu sei già fatto fino al buco del culo amico se ne andò assieme alla neve e ai suoi quattro denti continuai il brindisi e questo lo dedico a te Filippo e alla tua incapacità di volerti bene cin accese una sigaretta e appoggiai una scella sullo schienale della sedia chiusi gli occhi avevo tanta roba che mi frullava nel cervello porco il mondo quanto avrei desiderato svegliarmi ancora nella stanza da letto col fetore degli abiti da lavoro abbandonati sulla sedia o a cercare mutande pulite nella cesta in bagno tra i brontolini di Adele avrei accettato pure il suo elencare quotidiano di difetti di mancanze di errori che commettevo avrei accolto tutto questo vomito addosso pur di riaverla merda dovevo smettere di pensare al fottuto passato non faceva altro che ricordarmi di quanto mi fossi rammollito ma no ma no ma no sai proprio tu credo di sì risposi aprì gli occhi e li spostai dal fumo era Alicia una giovane cavallina rampante che conobbi due o tre anni prima un noioso compleanno beh dopo la neve un po' di sole considerai posso sedermi qui ma certo che bella visione to prendi questo ne passai un bicchierino cosa fai tutto solo in questo posto brindo e con chi lasciamo stare altra domanda rise non sai quanto sono felice di vederti mi abbracciò allora raccontami qualcosa di buono Filippo come va con le tue poesie continuò a scriverle adoravo le tue poesie ricordi quando ti costrinsi a leggerne una davanti agli altri invitati con la minaccia di toccarti pubblicamente tra le gambe se non l'avessi fatto ricordo solo che quella volta sei stata una notevole stronza fa un culo va avevi un'espressione divertentissima anche tu mi piacevi io non ho detto questo dai su non fare il prezioso che non ti si addice anche io ti piacevo lo so vecchio porco beh avevi un bel paio di giochini sferici sul petto ma era una ragazzina e io stavo con lei dovevo fare il bravo vedo che continui a tenerti in forma cretino guarda ti piacciono ancora i miei giochini sferici da ventenne si palpò le tette e poi le tenne unite con le mani avevo un abbondante terza che restava sua meraviglia e io avevo quasi dieci anni più di lei se i pensieri fossero condannabili sarai spacciato ma dimmi una cosa Alicia farai mica la prostituta per campare ehi tieni a freno la fantasia bel poeta mi potrei anche offendere coprì il seno con le braccia quasi distinto e comunque no non faccio la puttana stronzo studio ultimo anno di liceo artistico sereno adesso va meglio sì dai bevi non hai ancora toccato il bicchiere e sia così alla nostra dopo aver accontentato lo stomaco un'altra parte del corpo mi imponeva che la accontentassi e con Adele così si chiama vero? insomma state ancora insieme disse maliziosa le durezze appassirono di colpo no oh la la che il scoop lasciamo perdere anche questo argomento no come vuoi tu bel poeta maledetto e smettila di darmi del bel poeta per favore non penso affatto di esserlo hm il bel poeta è anche permaloso forse lo sono ma in questo caso non c'entra la permalosità puoi definirmi solo come poeta se vuoi non aggiungere aggettivi superflui ma che cavolo hai da ridere così tanto ascoltami bene Filippo sono seria a me piacciono le facce interessanti le persone interessanti dei belli non so che farmene sei questo cui alludi e comunque per me tu sei un bel poeta e anche molto interessante si misce le mani sotto il mento premendo i gomiti sul tavolo iniziava a scrutarmi con un paio di occhioni neri come zampe di corvo toccati appena dalle punte di una frangia dello stesso colore smise di emettere risate fastidiose indossò una bella espressione aveva il potere di rendermi un perfetto citrullo alissia la ventenne proseguì a spiegare non scherzo quando dico che mi piaci davvero filippo chi se ne frega di quello che tu pensi di te stesso rise ancora una volta io restai zitto la sua affermazione risucchiò in sé ogni mio possibile contraccambio verbale ma quanto sei silenzioso adesso sei strano che ti è successo va bene lo stesso adesso devo andare sono già le sette e mezzo di sera e ho da fare un casino di cose che cos'hai da fare le chiesi uh ti è tornata la voce domandò divertita poi cominciò a contarsi le dita partendo dal pollice devo arrivare fino a casa docciarmi vestirmi farmi bella e poi uscire con Alessandro ecco che cosa da fare stasera mi porta al cinema quindi hai un ragazzo si alzò di scatto sì da un paio d'anni va bene eh no che non va bene disse ridendo risi anch'io stavolta mi versai dell'altro Jack e buttai giù lei lasciò il bicchiere pieno a metà mi salutò con uno di quei maledetti baci che ti inchiodano la mente sapeva di libertà ci saremmo rivisti un giorno o l'altro sì lo avremmo fatto quelle gambe lunghe mi avrebbero ricordato che da qualche parte tra le montagne un dio sarebbe sopravvissuto per rendermi grazie avevo sintonizzato la radio su una stazione di musica classica passava un brano al pianoforte credo fosse stato Chopin non ero un intenditore di musica classica un odore di muffa mi si appiccicava ai peli del naso io volevo solo scrivere e morire e poi risorgere da me stesso le tapparelle erano tirate giù ma lasciavano filtrare la luce rossa intermittente del bar sulla strada erano circa le tre di notte ero solo come lo ero negli ultimi mesi il pacchetto conteneva ancora un quarto di paglie ne mesi una fra i denti mi slacciai i pantaloni sentivo la sofferenza del ventre gonfio stretto dalla cintura era una di quelle notti in cui si ammassano pensieri reconditi a vicende vergognose trascorse nessuno è escluso da questo tipo di notti confidavo a me stesso che scrivere in quelle notti fosse meraviglioso puoi dire quello che ti pare pensavo senza essere interrotto da stupide considerazioni altrui da noiose prediche o indici puntati verso il petto oh madre santa scrivere rende liberi e prigionieri almeno quanto il vino presi una delle tre bottiglie in credenza la stappai era l'ambrusco emiliano a buon mercato mi versai da bere iniziai a sorridere poi a ridere a crepapelle ridevo di me stesso poco dopo piansi lo feci per l'assurdo che mi pervadeva erano lacrime come aceto di mele mi scorciai le maniche della camicia polsi anelli orologio feci un abbondante sorso e sistemai il sedere sullo sgabello da quel momento sarebbe iniziato un travagliato viaggio tra le parole fatto di ricordi e fandonie sei sempre chiuso in questa maledetta stanza non senti che puzza ma come fai a scrivere di ciò che ne è al di fuori non frequenti i tuoi amici eviti di fare nuove conoscenze sei restio solitario scontroso come cazzo fai a scrivere delle persone se non conosci le persone questa era Adele mi rimbombavano le sue accuse nelle orecchie sfondavano strati di cerume arrivandomi a pugnalare il cervello insistentemente fino allo sfinimento giusto il tempo di riprendere fiato e poi continuava patetico sei patetico scrivi di donne di scopate di chissà quali misteriose notti e intanto resti lì fermo davanti a uno schermo e a una bottiglia a usare una fantasia corrosa dal desiderio io non ti basto più Filippo su dimmelo stronzo mi manchi continuamente di rispetto ma svegliati una buona volta lavati mettiti qualcosa di pulito addosso ed esci è lì fuori che si trova la vita non davanti allo schermo successivamente arrivava a trovarmi Joyce con le sue lusinghe da meretrice incallita vorrei che gli uomini ecco vorrei che mi guardassero almeno per una volta negli occhi a fondo comprendi Cico tu lo hai fatto desidero che mi facciano sentire una vera donna ma io sono solo una puttana lo so per loro e anche per me stessa buona vita Cico adios oh Joyce non sarà facile scordare le tue gambe e i tuoi tristi occhi buona vita parati Filippo tesoro mio non far soffrire Adele lei tiene molto a te ti vuol bene portale rispetto andate a fare un giro da qualche parte ogni tanto non costringerla a restare in casa di sabato sera andate a cena fuori divertitevi non fumare troppo mi raccomando non bere la giovinezza non è eterna godetevi questi anni mamma mia la mia cara mamma che sentivo almeno una volta la settimana al telefono l'unica donna che aveva sempre ragione scopami più forte Filippo scopami come non hai fatto mai con nessun'altra schiaffeggiami il culo oh sì più forte ancora di più dio buono Didi e le sue chiappe di cuoio ma Didi era anche qualcosa di diverso dalle sue chiappe solo che non ricordo bene cosa che altro dobbiamo fare per invitarvi una sera da noi un telegramma ormai siete come dei fantasmi tu e Adele in casa non ci siete mai ed è diventata una scommessa anche solo vedervi in giro o sul pianerottolo del condominio l'invadenza senza uguali di Ilaria portavoce anche del suo gianchi che intanto sapeva bene dove trovare Adele mi piaci bel poeta con te farei sesso mille volte e oltre mi piaci per quello che sei stupido non me ne frega niente di come spendi la tua vita voglio solo che tu ne spenda un po' con me oh dolce Alicia presente al momento sbagliato giovane cavallina rampante dagli occhi neri come zampe di corvo e poi c'ero io quello che forse riusciva a farsi più domande e accuse di tutti gli altri messi assieme ma chi vuoi che importino i mal di testa altrui tenerebà dai propri è già un'impresa le parole sono come carboni ardenti da calpestare scalzi e ustionarsi o come una buona scopata svuotapalle bisognerebbe saperle usare sovrumanamente le parole per non lasciare che ti squarcino le carni e intacchino quelle di chi le legga cosa questa che fu impossibile anche al genio di Oscar Wilde quando usi le parole spari e saprai chi hai colpito a morte solo dopo aver terminato le cartucce dotai con le voci le facce tentacoli velenosi idee parole che mi avevano attraversato sino a quel momento o magari era solo la scarsa qualità del vino ingerito a renderle tanto vivide quanto surreali tutti avevano avuto qualcosa da dirmi apprezzamenti maledizioni adoravo e odiavo quel qualcosa che mi avevano detto con la medesima intensità attutivo la confusione agganciando il collo della bottiglia portandolo ripetutamente alla bocca ma la confusione non fece che aumentare mi svegliai in ospedale come diavolo c'ero finito in ospedale mi trovavo steso su un materasso rigido e caldo la testa se ne andava di qua e di là pur restando ferma sollevai il collo con sforzo in mane tentando di guardarmi i piedi accorgendomi poi di avere indosso solo una casacca bianca lunga fino alle caviglie tre o quattro lacci annodati dietro la schiena la assicuravano al corpo avevo un prurito selvaggio dappertutto al di sotto della casacca ero nudo come un verme e se mi stessi trasformando realmente in un verme immaginai cioè in una di quelle bestiole senza arti e senza collo che fruga nella terra ero quasi convinto che stessi subendo una sorta di metamorfosi kafkiana ma più probabilmente ero ancora sotto l'effetto di qualche farmaco rincoglionente che mi avevano somministrato quando ero privo di sensi mi resi conto ben presto di possedere mani e braccia e potei grattarmi liberamente la pancia collo culo e palle si aprì la porta ed entrò un'infermiera dagli avambracci molli e dal sedere gelatinoso era un fottuto cran caramella variato mi riperò dalla flebo non mi accorsi neanche di esserne attaccato buongiorno filippo ha dormito bene disse con una vocina squillante che sembrava avere almeno trent'anni in meno agli avambracci risposi con gli occhi capì che non avevo alcuna intenzione di parlare su su adesso vada in bagno a fare la pipì entrò in bagno prima di me con tutto il culo che aveva prese un contenitore e me lo mostrò faccia la pipì qui dentro intesi va bene quando mi alzai per andare a pisciare le mostrai il di dietro con vehemenza quasi a volerle dire ehi attenta che spara ma la sua faccia struccata stanca e rugosa era fin troppo abituata a certe polveri da sparo solo allora compresi che alcune parole non potessero sprigionare le stesse sensazioni di un peto liberatorie e così mi liberai la donna mi prese la pressione e la temperatura corporea non avevo febbre in compenso la minima pressoria era schizzata su a razzo mi diede del carvedilolo per farla tornare a posto e se ne andò traballando ero spaventato terrorizzato entrarono prima i medici il primario un uomo lunghissimo e abbonzatissimo dai capelli bianchissimi guidava una turma di specializzanti assetati del mio terrore sembravano volersene nutrire ringrazi pure la ragazza che ha chiamato tempestivamente in pronto soccorso Rao è molto probabile che avrebbe subito danni peggiori se fosse rimasto dov'era per l'intera notte che tipo di danni mi scusi mi ascolti Rao mi sembra inutile fare lunghi giri di parole tossì poi arricciò due o tre volte il naso quasi come a voler intavolare un rito diabolico come se fosse il solito tic prima di annunciare una brutta notizia quindi parlò potrebbe avere dei problemi renali nonché al fegato ma della loro esatta natura e gravità potremmo venirne a conoscenza solo attraverso esami specifici che tipo di esami dottore ero ormai nel panico a tempo debito sarà informato in ogni caso stia tranquillo nulla di particolarmente invasivo intanto cercheremo di stabilizzarle i valori ematici per quanto possibile buona giornata buona giornata al cazzo pensai chissà perché quando qualcuno mi dice di stare tranquillo mi agito maggiormente i quasi dottori seguirono in fila indiana l'altissimo capobranco mentre questi abbandonava la stanza dopo una settimana mi dimisero i miei reni non erano certo freschi e tosti come un merluzzo nel congelatore ma sarei sopravvissuto anche questa volta il fegato era ingrossato come una spugna piena d'acqua mi avevano forato quotidianamente le braccia e infilato tubicini ovunque dal pene al culo ma ero ancora salvo e avrei dovuto ingurgitare una miriade di pillole colorate per mesi mettendo da parte la bottiglia dio santo più che salvo mi stavo giocando la scorza prima di abbandonare l'ospedale mi tolsi lo sfizio di far dondolare gli avambracci molli dell'infermiera con un dito facendoli agitare come pendoli impazziti non la prese bene mi rincorse per tutto il corridoio s'affannò di brutto si rinunciò e se ne tornò al reparto dopo qualche tempo venne a conoscenza che il salvatore della mia pellaccia fu Adele me lo disse Ilaria una decina di giorni successivi all'accaduto Adele aveva una copia delle chiavi di casa entrò in appartamento quella sera per riprendersi i bracciali dimenticati da qualche parte non trovo mai quella ferraglia e non so realmente se quella sera fosse piuttosto intenzionata a riappacificare i rapporti in alternativa dovette raccogliere lo straccio più sporco e malmesso che giacesse sul pavimento me la signora Marta Pellicani venne a trovarmi un mese più tardi o giù di lì non l'aspettavo da vedova del fungaiolo Flavio Guerra era la proprietaria dell'appartamento in cui abitavo era un tardo pomeriggio mi prese alla sprovvista accantonai a un lato del tavolo un mucchio di fogli su cui stavo scrivendo dei racconti e raccolsi per quanto potevo cicche e lattine vuote sparse qua e là sul pavimento giusto il tempo che salisse le scale la feci accomodare sulla sedia buona la tenevo stipata per gli ospiti indesiderati quella sedia poi da buon affittuario le offrì una scelta caffè o whisky era una donna distinta pellicani sui settanta aveva la bocca a culo di gallina schiena ritta i capelli raccolti in una decina di gancetti dorati indossava sempre dei vestitini a fiori lunghi fino ai polpazzi esili come steli di papavero e scarpe modello suora 1960 quella figura fine e grigia aveva un non so che disommesso e spietato oh no l'alcol a quest'ora proprio no disse sorrise meglio il caffè grazie beh se non altro fece una scelta preparai quindi la macchinetta del caffè per due tazzine immagino che tu conosca i motivi per cui sono venuta a trovarti Filippo suppongo di sì come lo ha saputo su Filippo guardò il tavolo che sembrava quasi imbarazzata sono trascorsi almeno tre mesi come avrei fatto a non accorgermene so via non mi prendere per una stupida rimbambita per cortesia ma no Marta la correggo mi scusi non volevo mica prenderla per una stupida rimbambita è trascorso solo un mese da quando sono stato dimesso dall'ospedale e la ringrazio per la visita credo ci sia un equivoco mi spiace sia stato in ospedale io non ne sapevo nulla dire il vero spero niente di grave per te mi riferivo all'affitto sono tre mesi che non versi quanto mi devi e non mi hai degnato neanche di una spiegazione che diamine però sospirai ero nella merda forse l'affitto si filippo l'affitto come intendi risolverla questa situazione lei si trovava dall'altro capo del tavolo ma quegli occhi severi mi stavano perforando alla pari di un'uncera ho perduto il lavoro signora mi grattai la barba guardando il soffitto e ho speso tutta la liquidazione lasci che le offra un whisky non voglio del whisky filippo voglio le tre mensilità arretrate mi sento anche in imbarazzo nel dovertelo chiedere ma qui ci troviamo di fronte a un corposo debito e su via intendiamoci quei ripetuti su via mi trasmettevano un non so che di irritabile un altro mese ancora pellicani solo uno le prometto che alla scadenza del prossimo mese se non dovessi versarle quanto le spetta andrò via di qui le lascerò casa libera ma promesso anticipai qualsiasi menzogna che avrebbe potuto vomitare mi scusi un attimo le dissi subito dopo mi alzai e andai a rovistare nei vari stipetti della cucina dove cazzo l'ho messa mi domandavo sotto il lavello non c'era nel tiretto delle vettovaglie nemmeno e neanche in tutti gli altri scomparti mi spostai in salotto quella fottuta bottiglia voleva farmi diventare matto mi scordai per un attimo che al tavolo nell'altra stanza ci fosse lei avrebbe aspettato cazzo che diavolo aveva da fare se non pensare a come spendere i miei quattrini immaginavo che avesse la borsetta carica del denaro delle varie mensilità riscosse se avessi avuto cattive intenzioni oh Cristo se avessi avuto solo un po' di palle in più ne avrai fatto di sicuro qualcosa di brutto eccola trovai la bottiglia sulla scrivania del computer tornai in cucina presi un paio di bicchierini e tornai da lei poggiai i bicchieri sul tavolo e vi versai il whisky oh no Filippo ti prego niente alcol la vecchia baldracca era un ex alcolista ne era venuta fuori da almeno cinque anni ma il solo odore del whisky le provocava delle convulsioni facciali simili a quelle di un orgasmo va bene non insisto più dissi beve il suo caffè buttai in gola anche il mio posso chiederti una cosa disse certo Marta ecco prese i fogli tra le mani mentre eri andato dirà beh mi sono permessa di leggere un paio di queste pagine sai adoro leggere e non ho resistito sei tu l'autore vero devo togliermi l'abitudine di lasciare i miei fogli sul tavolo sì Marta non immaginavo avessi la passione della scrittura ebbene sì mi faresti leggere questa storia quando l'avrai terminata sai anche il mio povero marito era uno scrittore poi un brutto male e sai va bene risposi sembrava essersi addolcita nell'animo improvviso tagliai corto ho sempre odiato le lagne sulla morte e sulle malattie soprattutto quelle in cui non hai altra scelta che sorbire il discorso con finte facce di comprensione così mi sedetti accanto a lei e le tenne una mano su Marta ora non si abbatta mi guardò con occhi rossi commossi poi come un uccellaccio della malora che infilza un ratto col becco afferrò il bicchiere di scatto e lo svuotò nel gargarozzo farsene un altro ordinò mi lasciò perplesso mi rideva anche il culo in fondo non avrei voluto farle perdere la testa nuovamente e così dopo un paio di ragionevoli considerazioni le riempì il secondo bicchiere scolò anche quello la distinta signora pellicani iniziò a trasformarsi nella donna che avevo sempre immaginato una consumata scopaiola hippie perché secondo te non ho più le qualità per essere sbattuta a modo dimmi certo che le ha a marta un altro butta qui riempi soddisfai la sua richiesta ne versai anche per me avrò anche settant'anni continuò alzandosi in piedi ma a volte sento certi bollori venirmi su come se ne avessi venti sono cinque cinque capisci sono cinque lunghi anni che non vado a letto con un uomo eppure ho ancora tutto al posto giusto non credi si accarezzò lungo i fianchi voi uomini siete solo degli spaventapasseri che diamine pretendete che ve la sbatta sul naso per farvi capire che voglio scopare sono vedova non contagiosa e che cazzo su via svegliatevi io bevi almeno quanto lei ma iniziavo a rendermi conto che aveva esagerato sin dal primo bicchiere perché non provi a sbattermi tu o metto fuori un coloso ce l'hai un buon affare e un letto e allora ascolti Marta non metterò nulla di mio tra le sue gambe restò impietrita sembrava un tordo imbalsamato eppure sapevo che sotto quell'espressione da buona cristiana si nascondeva un'anima malvagia scoppiò a piangere povera donna mi sentii ridicolo per lei cercai di giustificare il mio comportamento in qualche maniera ma pareva una mocciosa che non ascolta ragioni si inghiozzava e piangeva si introdusse la testa tra le braccia incrociate sul tavolo e in quello stesso momento suonarono il citofono forza Marta si alzi vada in bagno a lavarsi la faccia hanno suonato io ti sbatto fuori da questa casa ringhiò scoprendo appena gli occhi dalle braccia mi hai sentito piccolo verme cominciò a dare di matto vado a rispondere stia calma per favore io ti sbatto fuori urlava mentre mi allontanavo in corridoio rispose al citofono chi è? ciao Filippo sono Adele che cosa ci fai qui? mi faresti salire un attimo? ho bisogno di parlarti sì no di cosa vuoi parlarmi? le dissi mentre la vecchia continuava a strillare indemoniata di chi è questa voce? nessuno hai una donna in casa ehi tu di là mi senti vero? ti sbatto fuori sei un pagliaccio Filippo no Adele hai frainteso è la signora Pellicani pure le vecchie adesso ti sbatti beh guarda per me hai superato ogni limite della decenza Adele ma che cazzo hai capito? ho capito ben ho capito benissimo scusa ma tu non ti scopi quel fallito di Giacchi? fuori devi andare mi senti idiota? tutti devono sentire beh ciao Filippo buona fortuna concluse Adele continua pure con la tua vita ho avuto conferma che può andare avanti anche senza di me e comunque io non vado a letto con nessuno non ci riuscirei ma tu credi di sapere sempre tutto fai cose buone Adele smettila e ascoltami come hai detto sul fallito? era già andata via mi lasciò tra le urla mi trovavo nuovamente nella più insana delle situazioni adesso mi sarebbe toccato uccidere la vecchia sì non ne potevo più di sentirla gracchiare non mi veniva null'altro in mente per farla smettere se non abbreviarle l'esistenza non faceva altro che vanneggiare completamente fuori di senno dovevo solo decidere che tipo di fine farle fare se darle un colpo secco sulla nuca o gettarla dal terrazzino con un calcio nel culo mentre pensavo a tutto questo intimava lo sfratto mi ripeteva di sloggiare dall'appartamento in seduta stante cercai di calmarla una volta ancora proponendole un altro caffè ma non voleva ascoltare ragioni era una poppante di settant'anni maledetto me poi miracolosamente riuscì a spegnere la sua ira le diedi l'ultima possibilità di vivere cercai delle buone parole i miei unici proiettili le dissi che quando si incazzava i suoi occhi apparivano lucidi e pieni come grappa in bicchieri di cristallo o una cazzata di questo tipo gracchiò per altri 4 o 5 minuti poi si ravvide probabilmente presa dal complimento inaspettato infine le riuscì a strappare una promessa un'altra settimana in quella casa solo il tempo che sarebbe bastato a preparare tutta la documentazione per sbattermi fuori terminai nello sconforto il mio tuo amichevole nemico ma in fondo vi ero abituato il barone della stazione ricordo diceva che il culo del cielo a volte la fa troppo dura e altre volte troppo molle ma caca sempre sulle stesse teste provai di colpo un immenso rispetto per quel tipo scrisse una lettera ad Adele più avanti mi mancava fottutamente ciao Adele o magari dovrei iniziare come in ogni lettera che si rispetti con un cara Adele ma non sono affine alle convenzioni dovresti saperlo beh se leggi queste parole vorrei dire che avrò avuto il coraggio di spedirtele anche se ne dubito nei confronti dei sentimenti mi reputo abbastanza codardo va bene da qualche parte bisogna pur cominciare e sia la tua assenza in questa casa nelle mie ore ha innescato il meccanismo perverso della solitudine forzata cosa che non credo di essere pronto a sopportare è qualcosa che somiglia molto alla sindrome dell'abbandono io sono l'adolescente inquieto insoddisfatto come al solito e tu la donna l'adulto so che con le mie smanie le mie stronzate atomiche e in qualche modo questo tipo di solitudine me la sono costruita da solo e l'ho fatta provare a te per primo lasciandoti in un angolo mentre io vadavo a inseguire i miei sogni d'altronde sono sempre stato quello che tra i due avesse bisogno di crearsi una sorta di sofferenza artificiale fatta di randagismo mentale ed esigenze da soddisfare sottovalutando puntualmente lo stato d'animo di chi avevo al mio fianco voglio essere onesto non sono qui per difendermi o per dimostrarti qualcosa come ad esempio che potrei cambiare cazzo sappiamo entrambi che nessuno può cambiare veramente tranne se avesse una vocazione divina o che ne so un altro tipo di vocazione meno religiosa non sono qui per chiederti scusa troppo facile non credi sarebbe solo un sedativo momentaneo all'ennesimo senso di colpa che provo vorrei sapessi che mi manchi sì cristo se mi manchi il tuo odore le risate ma anche i vaffanculo il sesso forte e quello delicato le tue gambe ok ok basta va a finire che mi ecciti sul serio sono un povero scemo che tenta di farsi spazio tra rivoli di piscio umano quando sembrerebbe molto più umano provare a tenersi stretto ciò a cui si tiene veramente ma è scontato che io non sia arrivato ancora a questo step come è scontato che si arrivi a tenere a qualcuno solo dal momento in cui non è più con noi credo di avere finito le cartucce e la birra pro ispirazione ah che stupido lasciando a parte le mie continue battutacce penso non sia granché come lettera anzi sono sicuro che sia da cartocciare prima che tu possa leggerla prima che faccia l'errore di spedirtela ma è tutto ciò che ho in mente volevo fartelo sapere torna se puoi a voce sarà più semplice o distruttivo filippo di a di fuoco alla lettera poco dopo rammento che nei momenti di lucidità pensavo di dovermi disintossicare dai vizi dannosi compreso l'atteggiamento adolescenziale che proprio non riuscivo a strapparmi dai panni ma a chiacchiere ero bravo oh cristo se lo ero i vizi sono gli unici nemici che scegli di frequentare consapevolmente ripetevo a me stesso e queste parole non facevano che balenarmi nel cranio come fossero l'unica giustificazione capace di assolvermi dai peccati oh se solo avessi avuto quel paio di testicoli abnormi che auguravo all'ipotetico modello maschile di Adele e invece continuavo a contare fallimenti come quattrini fra le mani di un killer avevo perso tutto quello che di più importante possedevo o credevo di possedere in realtà nessuno di noi non possiede un bell'accidente quando il giro finisce tutto finisce con esso ero arrivato a un punto tragico della mia esistenza in cui valutavo l'ipotesi di farla finita parcheggiai l'auto sul ponte di serra mazzoni quella volta era probabile che mi fossi stordito con qualche sostanza per poterlo fare sotto i miei piedi venti metri e forse più di volo scesi dall'abitacolo mi avvicinai a quel vuoto frastornante che era quasi pari al contenuto dei miei coglioni poi posi le mani attorno alla bocca e come un alpino a cui piace sentire il rinculo della propria voce urlai fottiti arrivò l'eco puntuale non mentiva diceva proprio fottiti e ancora fottiti e fottiti fottiti era giunto quindi il momento di farlo dallassù ammiravo le punte degli abeti che si scontravano nel vento ah quanta dissipata poesia provavo terrore solo al pensiero di raggiungerne le radici rientrai in renault fanculo al ponte e al panorama non ero mica tanto folle da cancellarmi sul serio in quel modo andai a coricarmi successivamente a quell'esperienza mi limitavo ad annaffiare gli stati d'animo più scorazzanti con ogni tipo di alcolico non tenne molto conto delle parole del medico in questo modo bevendo almeno riuscivo a tenermi a bada ma solo la scrittura mi salvava dio dell'oblio quelle battone di parole non mi tradivano erano in grado di sollevarmi come un putto sulla nuvoletta bianca prima di rispedirmi nello stesso inferno da cui proveniva la maledizione di Bukowski e Baudelaire la solitudine dell'io l'agenzia del lavoro era collocata sopra la stazione delle corriere giaceva in una vomitevole stanza con piastrelle celesti simili a quelle di un manicomio abbandonato mancavano quattro giorni allo sfratto dovevo darmi da fare il corridoio pullulava di donne gravide e carrozzine odori inquietanti facce nere bianco sporche e verdi carogna l'unico merito attribuibile alla disperazione è di non essere razzista trovai posto fra la copia esatta di Bob Marley e la figlia illegittima di Jennifer Lopez le gambe e il petto se non altro mi ricordavano lei tirai fuori dalla giacca una boccetta di scotch tanto per stordire il dolore e ne ingurgitai mezza ehi disse Bob ehi dissi io fratello io volere un po' no volere cosa stai buono eh quella roba io dire fratello allargò la bocca come se avesse beccato due lesbiche nel proprio letto cazzo amico per un attimo ho avuto seriamente paura che mi stessi chiedendo un pompino gli passai quanto richiesto era felice io un po' di meno numero 17 toccava a me ciao Bob salutemi la giamaica presentai il curriculum alla tipa dietro la scrivania prima della mia stessa faccia tanto disgraziata o angelica che sia la faccia serve a poco in occasioni del genere lesse con calma attraverso un paio di occhialini rettangolari una boccuccia stretta memava lentamente le parole scritte su quei fogli allora ricapitolando filippo tu cerchi un'occupazione che non sia in una fabbrica metalmeccanica ceramica e così via quindi a quanto leggo non cerchi lavoro in nessun tipo di fabbrica giusto giusto signorina signora prego signora giustini grazie ma guarda un po' non si avrai mai scommesso che fosse sposata e da cosa lo avresti dedotto scusa sembrava innervosita ma no oh diavolo forse ha frainteso mi spiego meglio mi sembrava troppo giovane per chi potesse essere già sposata tutto qua dice un sorrisetto stupido va bene dai andiamo avanti era arrossita come una quindicenne al suo primo appuntamento allora tu preferiresti un posto di lavoro come grafico pubblicitario o come impiegato sbaglio? non sbaglia pretenzioso filippo molto pretenzioso ma oggi è il tuo giorno fortunato proprio questa mattina abbiamo ricevuto un fax da una scuola privata che ha urgenza di incrementare il personale scuola? e di cosa dovrei occuparmi in una scuola? segreteria? frena bello mio allora non sappiamo intanto se hai i requisiti giusti per questo tipo di lavoro quali requisiti dovrei avere signora giustini lessa il fax saltando i punti inutili tra i 25 e i 33 anni ambo i sessi disponibilità immediata auto munito ok ci sono dentro in tutto bene filippo lunedì prossimo ti presenterai alla scuola materna privata Italo Calvino di Vignola alle 8 in punto inizierai un periodo di prova come collaboratore scolastico collaboratore cosa? di che cosa si occupa un collaboratore scolastico? su su non fare troppe domande ritieniti fortunato e basta al momento lunedì andrai qui mi mostrò l'indirizzo io nel frattempo chiamerò la direzione scolastica per tutto il resto complimenti noi due siamo a posto arrivederci numero 18 ero sceso in strada e ciondolavo di qua e di là la notizia del nuovo incarico mi aveva quasi fatto fuori e così con l'aiuto improbabile di qualche sostanza avevo provato a fare fuori tutto quello che la notizia non era stata in grado di sopprimere non pensavo quasi più a nulla solo a dove mettere i piedi calciai una lattina sul marsapiede pestai la marda secca di un quadrupede zigzagai sulla griglia di una fogna mi fermai davanti al cancello della panetteria marsini era chiusa il cane mi fissava da dietro le sbarre mi somigliava abbaiava e aveva un paio d'occhi rossi e appesi era il mio specchio poi scodinzolò e si avvicinò al cancello in cerca di una mano sul capo ah povera bestia anche tu credi di essere libero eh il pomeriggio era diventato piuttosto noioso e per ravvivarlo entrai in un circolo per anziani tutta vita tra sedie e tavoli vuoti e un vecchio televisore spento trovai un bancone allestito da una caffetteria e una pila di bicchiari in plastica a un metro e ottanta da terra pressa poco al di sopra di una mensola brillava una squadriglia di bottiglie colorate era tanta roba triste quel posto ci stavo bene il custode del circolo era solo nel locale asciugava bicchieri con uno straccio lercio anche io ero solo eravamo soli in due ci evitavamo come se non esistessimo l'uno per l'altro lui era assai vecchio e sembrava stanco di campare io ero meno vecchio ma non meno stanco successivamente interruppi il silenzio gli domandai se avesse avuto qualcosa da bere che non fosse caffè o succo al colorante allungò lentamente un braccio sulla mensola spostò qualche cola e stanò una bottiglia di vino vino caserezzo tenne a dirmi non potevo chiedere di meglio mentre sorseggiavo entrò un uomo wow pensai ecco il terzo sfigato aveva allargato le tendine dell'uscio con una gamba e si era andato a sedere a un tavolino poco distante dal mio sembrava essere di casa aveva lo sguardo spento poi si dissetò dalla stessa bottiglia da cui avevo bevuto io e supposi che non l'avesse fatto tanto per motivi legati ad affinità gustative alle mie quanto perché era l'unica boccia del genere presente nel circolo il tizio aveva pressapoco una quarantina d'anni e lasciava credere di possedere un mucchio di guai aveva barba ispida rossa e cicatrizi sparse sugli zigomi un volto che superava di gran lunga le mie aspirazioni glielo invidiavo più che mai alla buon ora tony com'è andata la faccenda disse il vecchio ah com'è andata te lo dico io com'è andata a puttane rispose l'altro il vecchio chiuse il becco e abbassò nuovamente la testa sui bicchieri da asciugare riponendo gli occhi sotto l'ombra delle sopracciglia dammene un altro fanio disse lo sfregiato il vecchio gli andò a versare dell'altro vino poi ripose nuovamente la bottiglia sulla mensola vi teneva cortezza come fosse un soprammobile pregiato quel cazzo di bottiglia credo che dovrai farti un altro viaggio amico dissi arrivo subito rispose mi riempì il bicchiere e tornò a mettere la bottiglia sulla mensola e poi ancora dalla mensola allo sfregiato e ancora da lui alla mensola dalla mensola a me e da me alla mensola e andò avanti così fino a che non ce la scolammo per bene credo che tra le mie richieste quelle del tizio il vecchio non avesse mai pedalato tanto fanio disse toni portami il blocchetto e la penna il vecchio si fermò sul suo da fare e gli portò quanto richiesto tieni disse poi gli bisbigliò qualcosa a un orecchio toni annui e appuntò due righe sul blocchetto l'altro si diresse al bancone si inginocchiò sentì lo scricchiolare di ogni singolo malmesso ossicino delle sue ginocchia tornò al tavolo con una scatola in latta nuova di pacca e una bottiglia era ancora incelufanata vecchio mio sediti e bevi un goccio anche tu aprì la scatola e tirò fuori dei sigari cubani ne accese uno riempì tre bicchierini con grappa invecchiata fino all'orlo e mi invitò al loro tavolo sapevo sapevo ci fosse dell'altro alcol da qualche parte vieni amico dove bevono in due ok non me lo feci ripetere offrì un sigaro ad ognuno di noi alzammo i bicchieri e buttammo giù un gran sorso a testa il vecchio fanio mi appariva meno scontroso o forse ero io ad esserlo seduti a quel tavolo sembravamo tre malviventi in procinto di pianificare un furto una roba grossa non mi dispiaceva l'idea chiudi la saracinesca urlò toni al vecchio oh che cazzo succede disse intimorito fanio tirò giù la saracinesca il tizio dalle cicatrici recuperò un borsone da palestra nello sgabuzzino ecco ci siamo pensai che quell'insana idea sui malviventi stesse prendendo forma bevi amico bevi disse toni sentite tutti e due che cazzo state combinando lascia stare i nostri guai come ti chiami mi chiese gli disposi mi dai un passaggio filippo sento di potermi fidare di uno con quella fazza dove dovrei portarti da un amico eh tranquillo mi sentivo come uno scarafaggio sulla colla ero in trappola e non credevo che le preghiere potessero risolvere qualcosa ma ero convinto che il lavoro fosse sempre stato la trappola peggiore per uno come me allora provai un improvviso senso di pace e accettai uscimmo dal retro arrivammo alla renault spalancai il portavagagli e toni vi ci depose il borsone che diavolo ci fosse in quel borsone lo ignoravo iniziamo a pensare di aver fatto una bestialità ad accettare di portare il suo culo ovunque dovessi portarlo senti dove sta di casa il tuo amico mettiti alla guida rispose e smettila di rompere i coglioni sta in un posto vicino allora sentimi bene metti in moto e prosegui per circa 7-800 metri giù per le curve arrivi allo svincolo per serra e ti svolti poi subito alla tua sinistra trovi una stradina sterrata la prendi arrivati là ti darò altre indicazioni allora adesso riprendi il tuo cazzo di borsone e ci vai da solo in qualunque posto tu debba andare ok uscii di scatto dall'auto attraversai la strada ed entrai in un alimentari il mentecatto andò su tutte le furie riuscivo a vederlo dalla vetrata iniziò a battere i pugni sulla cappotta della già malmessa Renault imprecava come un dannato adesso mi ci devi portare intesi disfascio questa merda di macchina se non muovi il culo abbandonai il negozio con una bottiglia di birra in una mano e un panino alla mortadella dall'altra tornai da lui va bene ti ci porto cristo boia non farmi più incazzare estrasse dalla tasca dei gin il culo di un serramanico tanto per farmi capire di non essere solo e poi lo spinse di nuovo dentro la sera cominciava a scendere e a coprire quell'insignificante paese e io mi trovavo alla guida di un'altra rogna da risolvere eravamo partiti da pochi minuti il tizio mi disse di parcheggiare nel cortile di una billetta alla nostra destra ancora contornata dalle lucine intermittenti del natale scorso dai qua tu scese dall'auto fece un verso irriproducibile e dopo poco venne fuori di casa un uomo in canottiera bianca uscì in veranda gli mancava il braccio destro si dissero qualcosa l'uomo senza braccio gli passò un pacchetto con la mano che gli restava e rientrò in casa immediatamente parti disse Tony dopo essere rientrato in auto col pacchetto dammi una sigaretta capo gli dissi fumava malboro rosse di contrabbando ne sfilò una dal pacchetto ancora pieno e me la diede sbuffando ed eccomi lì adesso ero uno della banda anche se non sapevo a che titolo e di cosa si occupasse quella dannata banda stavo fumando una sigaretta del capo sbuffai del fumo e prosegui poi mi permisi di fare una domanda senti un po' posso sapere chi cazzo era quel tipo non fare domande rispose seccamente non feci più domande il capo non voleva essere disturbato comprensibile era più che comprensibile no ed era chiaro come il fondo di un bicchiere vuoto che se gli sbirri ci avessero fermato e perquisito ci avrebbero spremuto come due pomodori marci arrivammo a destinazione stavolta era una villa ben più lussuosa di quella precedente era piazzata nel bel mezzo del nulla nel bosco una villa tanto pomposa quanto inquietante era scesa la sera dei faretti piantati nel terreno la illuminavano dal basso dandole un'aria meravigliosamente tetra aprì la portiera siese dall'auto aprì il bagagliaio prese il borsone e senza dirmi null'altro che un rauco vattene zampettò verso la villa dannazione ero stato sedotto e abbandonato restai fermo lì continuavo a illuminare la scena coi fanali costeggiò il muretto della villa fece un gran giro quindi si stese a terra trovò l'ingresso che sapeva e come una serpe strisciò velocemente fino all'altra parte della recinzione introdussi la retromarsa non vedevo un cazzo dallo specchietto retrovisore per poco non finivo nel precipizio alle mie spalle posizionai l'auto nel verso contrario ingranai la prima e spinsi sul gas giuravo a me stesso che quella sarebbe stata l'ultima volta che mi sarai ficcato nei guai arrivai a casa quella che sarebbe stata ancora casa da lì a qualche giorno mi tolsi le scarpe mi stesi sul letto e sospirai al soffitto scartocciai l'involcro del panino alla mortadella che tenevo pressato nel tascone della giacca ne addentai un pezzo poi lo abbandonai per terra mi passò la fame guardai il cuscino accanto al mio dove a suo tempo poggiavano le guance di Adele la pensai per un lungo momento dopodiché afferrai tre blister che conservavo nel cassetto del comodino e strassi una pastiglia da ognuno ne presi una per colore buttai giù il tutto con della birra avanzata il giorno prima era calda come piscio quella birra affondai la testa sul guanciale mi sentii finalmente al sicuro da tutto quello che era al di fuori della finestra non ero al sicuro da me stesso oh merda questo no non lo sono mai stato al sicuro da me stesso un'altra notte era calata con l'intenzione di coprire tutta la merda che il giorno prima aveva cosparso sulle mie spalle spensi ogni luce tranne quella rossa del fast food sulla strada quella luce mi tormentava sempre nelle notti insonni stavolta non lo avrebbe fatto mi voltai su un lato e mi addormentai il mattino sarebbe giunto nuovamente coi cinguettii e i rumori dei claxon quel mattino avrebbe tentato con tutte le armi a propria disposizione ancora di uccidermi o stancarmi fino a stendermi di umiliarmi di costringermi a chinarmi davanti a un altro arrogante datore di lavoro di sorbire altre delusioni e di infliggermi nuovi sensi di colpa e di farmi chiudere in un bar a bere forte per sopprimerne il pensiero ma per sua sfortuna il mattino dovrà riprovarci anche domani non c'è ancora riuscito non mi ha ancora fatto fuori